Beh, devo dire che il tema che è stato scelto per oggi è un tema per questo nostro corso di aggiornamento, un tema molto importante, un tema sicuramente di grande spessore, perché dalle guerre mondiali 1914 al processo di unificazione europea, 2014 vuol dire partire da un momento di autodistruzione con la prospettiva di quella che poi è diventata una prospettiva di discorso di unificazione, quindi da un momento di autodistruzione degli Stati a un processo di costruzione per arrivare a quella che noi ci auguriamo, un'unificazione non solamente dal punto di vista economico e politico, ma anche dal punto di vista di unione reale, di condivisione dei sacrifici, tra virgolette, degli Stati e dei percorsi degli Stati. Quindi devo dire che la consulta europea si è adoperata moltissimo in questi anni, ha fatto un lavoro di grande approfondimento, di grande formazione, ma questo è un lavoro che è stato possibile grazie alla collaborazione da parte degli istituti e quindi grazie, un ringraziamento particolare va agli insegnanti che hanno accompagnato i nostri studenti in tutti questi anni e devo dire che con un pizzico di orgoglio quest'anno siamo riusciti anche ad offrire un format un pochettino diverso del nostro concorso Diventiamo Cittadini Europei inserendo anche degli aspetti multimediali per cercare di essere anche un pochettino al passo con i tempi e al passo con quelle che sono anche le cambiate attitudini da parte dei nostri studenti che sono, devo dire, quando uno dice ma una volta la scuola era diversa, gli studenti una volta, io sento sempre dire, soprattutto mia suocera che è un insegnante di vecchio stampo sento dire ma la scuola, devo dire che secondo me la scuola oggi è migliore, ma soprattutto gli studenti, perdonatemi, io ho una figlia studentessa al terzo anno di università e ho un figlio che frequenta l'ultimo anno di liceo scientifico, ma devo dire che secondo me non è vera questa cosa, perché la scuola è cambiata perché sono cambiati i tempi ma io ritengo che la scuola sia migliorata e devo dire che anche gli studenti sono sostanzialmente diversi perché sono delle spugne, sono fortemente recettivi perché i tempi sono quelli che sono e c'è la necessità di raccogliere il maggior numero di informazioni oggi vedi un ragazzino di 5 anni con un tablet in mano e fa delle cose impensabili e incredibili questo vuol dire che ci vuole sostanzialmente un accompagnamento, quali migliori accompagnatori che i nostri insegnanti per un futuro che sarà sicuramente un futuro noi ci auguriamo migliore ma con ancora molte incognite, c'è bisogno di accompagnare questi ragazzi noi vi ringraziamo veramente per quello che fate, per quello che vorrete fare e per quello che è stato il vostro messaggio ma soprattutto per quello che sarà il vostro lavoro futuro grazie quindi ai docenti che oggi ci accompagneranno in questo momento formativo li ringrazio tantissimo perché sono docenti di grandi qualità e ritengo che potrete raccogliere veramente grandi informazioni ma soprattutto grandi messaggi importantissimi messaggi e potrete trasferirli ai nostri ragazzi buon lavoro a tutti gli insegnanti e mi auguro un prossimo rivederci alla diciottesima edizione corso di aggiornamento per i nostri insegnanti del Piemonte che vorranno partecipare al nostro concorso diventiamo cittadini europei, grazie adesso passiamo alla relazione del professor Roberto Morelli dell'Università di Torino, la relazione sulle guerre mondiali e la crisi degli stati nazionali europei chiedo perdono, la dottoressa Donia, Maria Angela Donia in rappresentanza della dottoressa del direttore Giuliana Pupazzoni che era impossibilitato, le chiedo scusa quindi a lei la parola per il saluto dell'ufficio scolastico regionale, grazie buongiorno a tutti i presenti, buona giornata soprattutto agli insegnanti e alle insegnanti che vedo sono molto numerosi, questo mi fa piacere perché con tutto quello che c'è da fare tutto quello che si sovrappone è una sfida riuscire a partecipare ancora così tanti insieme io appunto non sono la Pupazzoni, sono Angela Donia però sono referente per cittadinanza e costituzione presso l'ufficio scolastico regionale, quindi sono stata incaricata dalla dottoressa di farvi i suoi saluti e anche dal mio dirigente che è il dottor Stefano Suraniti dell'ufficio sesto che si occupa di politiche giovanili il tema della cittadinanza europea è appunto il nostro presente e il nostro futuro soprattutto quello dei vostri studenti che sono per molti di voi forse anche figli come diceva prima il dottor Comba o nipoti e quindi noi ringraziamo molto la consulta regionale europea e il consiglio regionale perché con loro facciamo molte cose, quello che mi preme molto dire è che loro lavorano per la cittadinanza attiva io devo dire che sono subentrata una collega, è la prima volta che partecipo a questa iniziativa che mi sembra tra l'altro bella che festeggia un trentennale, quindi anche un momento di festa perché arrivare a 30 anni di esperienza non è da poco, però ho lavorato col consiglio regionale per i ragazzi in aula quindi conosco veramente lì appena che hanno nel far partecipare i ragazzi non la voglio far tanto lunga perché avrete una giornata impegnativa con persone veramente importanti che faranno i vostri formatori, però volevo fare una riflessione con voi io al mattino quando vado a lavorare passo davanti all'alfieri e vedo questi ragazzi giovani che stanno aspettando per entrare a scuola e che sono i famosi nativi digitali sono un po' sconcertata a volte perché non so bene che cosa sono mi chiedo, sono naturaliter europei? di sicuro istintivamente sono molto più europei di quello che fossimo noi questo lo immagino, devo dire, credo di essere anche un poco confermata da un'indagine che è stata fatta recentemente dall'Indire insieme all'ISFO dove pare che i giovani sognino l'Europa e anche perché la scuola per fortuna, noi non siamo i primi in Europa come mobilità però insomma ci siamo dati anche noi una mossa e quindi un po' con i Comenius che sono poi gli Erasmus delle superiori, delle scuole dove insegnate voi un po' per iniziative anche come questa che poi come premia hanno la mobilità hanno degli incontri europei un po' perché l'inglese per fortuna si comincia a insegnare anche dalle scuole primarie insomma quindi si imparano anche un pochino più le lingue la facilitazione delle comunicazioni diciamo i nostri ragazzi sentono che possono molto più muoversi andare in Europa più di noi e pare che la loro bandiera sia quella blu con le stelle gialle questa è una riflessione che volevo fare con voi poi non avrò il tempo di sentire le vostre risposte ecco però se c'è un istinto europeo è anche vero che l'istinto non basta ecco allora la cosa che mi pare veramente molto importante della giornata di oggi è che si va a studiare un po' dal punto di vista storico le radici di tutto questo perché nel centenario della prima guerra mondiale l'idea di ricostruire un'Europa su nazioni che sono state grandemente in conflitto tra di loro ricordiamo che un grande poeta italiano Clemente Rebora che fu in prima linea sul Monte Calvario come era chiamato allora il Podgora diceva che era un ammazzatoio pubblico ecco quindi questa guerra che è stata devastante per poi arrivare anche alla seconda guerra mondiale rimane ancora un qualcosa da far conoscere ai ragazzi anche perché il passato ci spiega delle cose del presente perché noi qui desideriamo che ci sia un'Europa unita e che tutti possiamo veramente sentirci sovranazionali però emergono ogni tanto in modo più o meno evidente anche ancora conflittualità, diffidenze eccetera quindi il momento di oggi mi sembra importante voi sarete poi portavoci di queste cose e veicolo per gli studenti quindi ringrazio ancora l'opportunità che è stata data dalla consulta europea ringrazio ancora il Consiglio regionale i professori qui presenti e nuovamente a voi come già stato detto prima buon lavoro grazie alla dottoressa Donna adesso è già annunciato il professor Morelli le guerre mondiali e la crisi degli stati nazionali e europei permettetemi di iniziare con un ricordo personale perché sono abbastanza emozionato essere qua perché sono invecchiato col concorso Diventiamo Cittadini Europei 30 anni fa avevo 30 anni di meno quando con Rosa Maria abbiamo varato e altre persone che non sono più abbiamo varato la prima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei si può quasi dire che ero in Braia Curte e allora 30 anni fa la percezione dell'Europa era molto diversa da quella che è oggi pensiamo che gli studenti che oggi si iscrivono all'università sono nati dopo la caduta del muro di Berlino per questi studenti nati dopo la caduta del muro di Berlino che cosa significa essere europei? non è la stessa cosa di ciò che significava per la mia generazione essere europei l'Europa aveva un significato molto preciso oggi avrei qualche difficoltà a spiegare a chi ha 15-20 anni perché debbano essere europei preciso io sono europeista non solo sono europeista ma sono anche federalista cioè credo in un particolare modello di Europa che è quello degli Stati Uniti ed Europa ma certamente spiegare ai giovani d'oggi perché debbono essere europei non è così facile così immediato come era fino a qualche tempo fa anche perché l'Europa è diventata il capro espiatorio di qualsiasi male una volta era il salutare vincolo esterno che obbligava un paese debole come l'Italia a prendere misure rigorose adesso tutto va male la colpa è dell'Europa aumentano i prezzi è colpa dell'Europa insomma l'Europa è colpa di tutto grazie anche a una certa propaganda di certe forze politiche che utilizzano una polemica anti-europeistica per magari raccattare qualche voto allora è sempre più importante spiegare ai giovani le origini dell'Europa perché è importante essere europei e veniamo allora all'origine dell'idea di Europa dell'integrazione europea nel centenario dello scoppio della prima guerra mondiale il 1900, il nuovo secolo si apriva sotto le luci sfolgoranti della belle epoca e al ritmo frenetico del can can la scienza stava facendo progressi eccezionali pensiamo era appena nata l'automobile l'aereo, il cinema, l'immunazione elettrica la medicina aveva fatto progressi eccezionali l'Europa stava vivendo decenni se non quasi un secolo di stabilità di pace dal congresso di Vienna allo scoppio della prima guerra mondiale un secolo di pace tale per cui uno storico polacco il Polanic definì questo periodo la pace dei cent'anni quindi grande entusiasmo grande euferia ma grande senso di sicurezza verso il futuro ma sotto la superficie si annidavano i germi di una crisi di civiltà di una crisi di civiltà europea che diventerà manifesta con la prima guerra mondiale e che si consumerà con la seconda guerra mondiale quando l'Europa perderà la centralità nel mondo la centralità nelle relazioni internazionali e non solo non dominerà più il mondo come aveva fatto per secoli dall'epoca delle esplorazioni geografiche dell'espansione coloniale ma essa stessa essa l'Europa sarà divisa e egemonizzata dalle due superpotenze bene l'egemonia del vecchio continente cominciava a inclinarsi già alla fine dell'Ottocento con la guerra del 1898 ispano-americana la guerra tra gli Stati Uniti e la Spagna per Cuba è il primo episodio di esportazione della democrazia gli Stati Uniti giustificarono la guerra con la Spagna con l'esportazione della democrazia a Cuba che allora era ancora una colonia spagnola e poi con la guerra russo-giapponese del 1904-1905 queste due guerre lanciarono sulla scena internazionale sulla scenario internazionale due nuove grandi potenze gli Stati Uniti e il Giappone la grande guerra quella che fu definita la grande guerra segnò appunto l'emergere di una grande crisi di civiltà dell'Europa dal punto di vista economico politico e culturale sul piano economico l'Europa cominciava a subire la concorrenza delle potenze extraeuropee Stati Uniti e Giappone appunto gli Stati Uniti e il Giappone avevano partecipato alla prima guerra mondiale ma non ne avevano subito le conseguenze disastrose in termini di distruzioni materiali come era capitato per la Francia per l'Italia per il Belgio per i paesi dell'Europa centrale gli Stati Uniti e il Giappone avevano tratto grande profitto dalla prima guerra mondiale con la prima guerra mondiale erano crollati quattro imperi l'impero russo l'impero tedesco il secondo Reich l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano sulle ceneri di questi quattro imperi erano sorti molti stati nuovi stati cosiddetti stati nazionali che balcanizzavano l'Europa migliaia di chilometri di confine in più a dividere i mercati di produzione dai mercati di consumo le fabbriche in cerca di manodopera dai disoccupati in cerca di lavoro i contadini dalle terre da coltivare nuove monete nazionali nuovi eserciti nazionali si diffondevano si diffondeva il protezionismo l'autarchia la stessa Inghilterra la stessa Regno Unito la patria del liberismo nel 1929 abbandonava il liberismo per adottare le preferenze imperiali cioè il protezionismo all'interno dell'impero che scatenava l'aggressività del Giappone 1930 l'aggressione del Giappone contro la Cina per la Manciuria la stessa Inghilterra la patria del liberismo ripiegava su politiche di tipo protezionistico si diffondeva il nazionalismo i trattati di pace che chiudevano la prima guerra mondiale avevano conseguenze spaventose sul futuro dell'Europa l'economista inglese Keynes che faceva parte della delegazione economica dell'Inghilterra alla conferenza della pace di Parigi così descrisse in un suo libro famoso molto importante le conseguenze economiche della pace così descrisse il trattato di Versailles nei confronti della Germania la pace cartaginese imposta alla Germania non è né buona né possibile né pratica e costituisce una sfida alla giustizia alla pietà al buonsenso il trattato di Versailles non comprende alcuna clausola che miri alla rinascita economica dell'Europa era Keynes che parlava nulla che possa trasformare in buoni vicini gli imperi centrali disfatti nulla che valga consolidare i nuovi stati d'Europa nulla che chiami a nuova vita la Russia esso non promuove neppure una stretta solidarietà economica tra gli alleati a Parigi non si riuscì a concretare alcun programma per la restaurazione delle finanze disordinate della Francia e dell'Italia o per dare un riassetto ai sistemi del vecchio e del nuovo mondo la pace imposta a Parigi fu una pace di vendetta una pace cartaginese per la prima volta nella storia del sistema europeo degli stati dalla pace di Cato Cambresi al congresso di Vienna le paci che seguivano le periodiche guerre che avevano sconvolto l'Europa erano paci di compromesso pensiamo a Vienna al congresso di Vienna la Francia aveva devastato l'Europa con oltre vent'anni di guerre la Francia è invitata al congresso di Vienna la Francia firma una pace in cui gioca un ruolo molto importante a Vienna si crea una fu creata un ordine che garantì stabilità per quasi un secolo all'Europa senza creare istituzioni il concerto europeo era informale non c'erano istituzioni a Parigi fu creata la società delle nazioni c'è un'istituzione per garantire la pace ci tornerò fra poco sulla società delle nazioni ma i risultati furono che meno di vent'anni dopo scoppiò un'altra e più tragica guerra sul piano politico quindi di nuovo come sul piano economico sul piano politico si manifesta una crisi della civiltà europea la Gran Bretagna non intendeva abbandonare la sua tradizionale politica di ago della bilancia dell'equilibrio europeo e per garantire il problema dell'Inghilterra era la Francia non la Germania era la Francia che a seguito della vittoria era diventata troppo forte in Europa il problema quindi era riequilibrare la potenza della Francia non punendo la Germania la Francia che era ossessionata dalla sicurezza nei confronti della Germania che intendeva punire la Germania indebolirla economicamente e monetariamente l'Italia esce dalla guerra insoddisfatta si sviluppa il mito della vittoria mutilata l'Italia in crisi politica ed economica la Germania è umiliata discriminata ansiosa di rivincita e il risultato sarà il nazismo i paesi orientali dell'Europa sono dilagnati da conflitti etnici alla faccia della costruzione degli stati cosiddetti nazionali l'Unione Sovietica è marginata si costruisce un cordone sanitario intorno all'Unione Sovietica tutti i vincitori sono pesantemente indebitati nei confronti degli Stati Uniti quasi 9 miliardi di dollari di debito nei confronti degli Stati Uniti e non intendono pagare il debito così sarà cominceranno a pagarlo poi con la crisi del 29 cancelleranno quel che resta del debito i vinti delusi per una pace imposta con un diktat i vinti non sono invitati a Parigi a discutere le condizioni della pace oltre alla balcanizzazione dell'Europa c'è un nuovo soggetto che è l'Unione Sovietica con l'esempio della rivoluzione bolshevica con la rivoluzione d'ottobre che accentua la divisione in classe nel resto d'Europa e la conflittualità sociale sul piano culturale crisi di civiltà sul piano culturale pensiamo al sentimento di smarrimento di incertezza e di pessimismo nell'opinione pubblica dopo quella che fu definita la grande guerra pensiamo agli orrori della guerra la guerra di trincea con gli ammutinamenti nei vari eserciti ammutinamenti repressi con la decimazione cioè con le fucilazioni sommarie la classe intellettuale manifestava comincia a manifestare durante e dopo la guerra la consapevolezza di una crisi di civiltà che si esprime in tutta una serie di libri pensiamo a Spengler il tramonto dell'occidente il primo volume esce nel 1918 il secondo nel 22 Paul Valéry nel 1919 rimarcava in una lettera in una lettera aperta la crisi dello spirito l'esperienza traumatica della guerra scriveva Valéry noi civiltà cioè noi Europa noi civiltà oggi sappiamo che siamo mortali e si interrogava sul futuro dell'Europa l'Europa diventerà ciò che ella è in realtà cioè un piccolo promontorio del continente asiatico e così altri intellettuali l'Europa è in decadenza un geografo francese scrive un libro il declino dell'Europa nascono la crisi di civiltà era già stata anticipata verso la fine dell'ottocente l'inizio del novecento dalla crisi dello scientismo positivistico l'ottocento è il secolo del positivismo lo ricordavo prima la fiducia in un progresso illimitato la fiducia nella scoperta di leggi che descrivano oggettivamente la realtà una concezione meccanicistico deterministica la fiducia di poter scoprire la realtà come effettivamente è all'inizio del novecento la stessa fisica entra in crisi c'è una nuova concezione della fisica con Planck con Einstein viene meno la fiducia nel rapporto deterministico causa effetto entra in crisi lo scientismo positivistico anche nelle scienze umane Nietzsche Berson Croce si rivaluta il soggetto rispetto al culto dell'oggettività la crisi dello scientismo positivistico si traduce anche in crisi delle ideologie politiche le grandi ideologie politiche dell'ottocento il liberalismo il socialismo erano accomunate al di là della diversità di impostazione ideologica erano accomunate entrambe dalla fiducia nel progresso i liberali quelli più avanzati perlomeno erano convinti che il capitalismo era capace di evolversi e di allargare la libertà gli spazi di libertà per tutti i socialisti erano convinti di essere i prosecutori gli eredi del liberismo riformista e di poter realizzare l'uguaglianza per tutti e entrambi si incontravano sul comune terreno della democrazia parlamentare all'inizio del novecento sulla destra dei liberali e sulla sinistra dei socialisti si sviluppano correnti antiparlamentari che mettono in discussione la democrazia parlamentare il nazionalismo a destra antiparlamentarista il nazionalismo e il razzismo a sinistra il socialismo rivoluzionario che critica il ruolo dei socialisti nei parlamenti temendo che ci sia una contaminazione borghese crisi culturale che si traduce anche nella letteratura nella pittura nella musica con lo scoppio della prima quindi l'Europa si presenta all'inizio del secolo e soprattutto con la prima guerra mondiale in una crisi di civiltà economica politica e culturale la guerra rilancia il tema cioè rilancia mette in primo piano il tema dell'unificazione europea già durante la guerra si parla dell'Europa come mezzo per risolvere il problema della guerra intellettuali politici si fanno paladini dell'idea di Europa unita già durante la guerra tutta una serie di riviste dedicano articoli al tema dell'Europa unita nascono riviste che si rifanno esplicitamente all'Europa sono un mare di riviste che dedicano in quel periodo temi all'Europa l'avanzare della guerra però accentua i nazionalismi nei vari paesi europei e l'ingresso degli Stati Uniti pone un problema che non è di integrazione regionale ma il problema di creare un'organizzazione universale l'ingresso degli Stati Uniti allarga ovviamente geograficamente il teatro di guerra Wilson il presidente americano pone il problema della creazione il 14 punto il 14esimo punto la creazione della società delle nazioni che è un'organizzazione universale non regionale c'è quindi come dire una specie di dibattito tra coloro che pensano a un'integrazione regionale per risolvere l'Europa e l'universalismo della società delle nazioni basato sull'arbitrato basato sul disarmo e così via la fine della guerra porta come è noto all'istituzione della società delle nazioni è la prima organizzazione internazionale a scopi politici l'organizzazione internazionale come la intendiamo oggi e cioè una struttura un ente permanente con una sede fissa con degli impiegati nasce l'organizzazione il termine fu poi cognato all'inizio del novecento mutuandolo da quello di organizzazione industriale l'organizzazione internazionale intesa come uffici permanenti con una sede con degli impiegati che lavorano per l'organizzazione internazionale e non per il proprio paese nasce nel corso dell'ottocento su questioni molto limitate settoriali a seguito della rivoluzione industriale la rivoluzione industriale poneva tutta una serie di problemi economici che andavano risolti seguiti affrontati giorno per giorno non più nei congressi internazionali non più occasionalmente dal concerto europeo che non aveva strutture permanenti quindi nascono l'ufficio internazionale telegrafico nasce l'ufficio postale universale l'ufficio per garantire i brevetti di fabbrica i marchi la proprietà intellettuale cioè tutte cose settoriali specifiche le commissioni permanenti per la navigazione sul Reno addirittura al congresso di Vienna viene istituita al congresso di Parigi del 56 dopo la guerra di Crimea la commissione permanente per la navigazione sul Danubio quindi nascono tutta una serie di organizzazioni settoriali per problemi specifici indotti dall'evoluzione economica dopo la prima guerra mondiale nasce un'organizzazione universale per garantire la pace cioè il tema della pace non è più soltanto dopo la prima guerra mondiale un problema di letterati di filosofi di umanisti di Erasmo da Rotterdam di Voltaire di Dante e così via ma diventa un problema delle cancellerie europee è stata talmente devastante la prima guerra mondiale in termini di distruzioni che si sente il bisogno di creare per la prima volta un'organizzazione universale per garantire la pace in effetti la prima guerra mondiale ha due caratteristiche che la distinguono da quelle precedenti che sono l'alta distruttività prima guerra mondiale quasi 9 milioni di morti perché rispetto alle guerre precedenti in mezzo c'è stata la rivoluzione industriale la rivoluzione industriale che ha reso la vita per tanti versi più comoda l'illuminazione elettrica eccetera eccetera ma l'ha resa anche più pericolosa perché la rivoluzione industriale ha significato anche la nascita di nuove armi più distruttive carri armati aviazione l'artiglieria pesante la mitragliatrice i gas benefici i sottomarini la guerra quindi è più pericolosa finisce la concezione della guerra come se trovo la citazione di no ah eccola qua d'annunzio questa guerra che sembra opera di distruzione e di abominazione è la più feconda matrice di bellezza e di virtù apparsa sulla terra 9 milioni di morti in precedenza la concezione della guerra era una concezione anche positiva per esempio si diceva la guerra esalta certe caratteristiche buone dello spirito umano il coraggio l'abnegazione l'amor di patria lo spirito di sacrificio con la prima guerra mondiale è la fine dell'umanità e poi a maggior ragione con la seconda guerra mondiale con l'arma atomica altro che esaltare matrice di bellezza eccetera è la fine è l'olocausto di tutta l'umanità quindi la prima guerra mondiale a maggior ragione e la seconda hanno questo aspetto di enorme distruttività hanno l'aspetto di totalità totalità che significa non mondiale nel senso geografico anche nel 1500 c'erano guerre che si combattevano in più continenti la guerra degli olandesi contro gli spagnoli fu combattuta in Europa in Asia eccetera la totalità significa che tutta la società viene mobilitata per lo sforzo bellico la guerra è totale nel senso che tutta la società è impegnata nello sforzo bellico le donne che debbano sostituire gli uomini che vanno al fronte gli intellettuali che debbano per la propaganda di guerra che debbano galvanizzare la propria nazione contro la nazione nemica il sistema industriale che deve produrre per le armi per la guerra la guerra è totale la vittoria deve essere totale al nemico si chiede la resa senza condizioni e la pace sarà la pace punitiva la pace cartaginese di fronte a questa situazione ecco che appunto dopo la prima guerra dopo la guerra viene creata su iniziativa del presidente americano Wilson addirittura a seguito della prima guerra mondiale nasce una nuova disciplina scientifica le relazioni internazionali che debbono studiare come mai è stata possibile una tragedia come quella della prima una disciplina che oggi si studia nelle università che studia appunto il problema della guerra delle relazioni internazionali prima cattedra di relazioni internazionali nasce nel 1919 bene nasce la società delle nazioni a Ginevra e è subito circondata da una serie di critiche ne ricordo qualcuna cominciamo con una delle critiche più corrosive della società delle nazioni che è quella di Einaudi Luigi Einaudi futuro presidente della Repubblica Italiana grande europeista federalista ispiratore di uno dei testi fondamentali del federalismo del secondo dopoguerra cioè del manifesto di Ventotene scritto poi nel 41 da Spinelli e da Rossi bene Einaudi nei suoi scritti che sono del 1918 1919 1920 e Einaudi parte dall'elaborazione di un concetto che diventa fondamentale per l'integrazione europea cioè il concetto di crisi dello Stato nazionale secondo Einaudi lo Stato nazionale è in crisi a causa della contraddizione fra l'internazionalizzazione del processo produttivo cioè dell'evoluzione economica e l'ambito la dimensione nazionale del potere politico cioè la rivoluzione industriale lo sviluppo economico chiede mercati più vasti dove poter scambiare dove uomini e merci possano liberamente circolare pensiamo alla rivoluzione industriale un paese che si industrializza ha bisogno di importare ciò che non ha ma è necessario per la rivoluzione industriale cioè le materie prime e ha bisogno di esportare l'eccedenza di produzione determinata appunto dalle capacità produttive delle manifatture e quindi si crea interdipendenza un paese ha bisogno di importare ciò che non ha esportare ciò che ha di troppo e quindi si richiede un mercato unico la dimensione politica degli stati è quella nazionale ricordavo prima che dopo la prima guerra mondiale si torna rispetto alla metà dell'ottocento dove l'Europa era un grande libero mercato c'era libertà di commercio dall'Atlantico fino al confine dell'impero zarista metà dell'ottocento il trionfo della scuola di Manchester di Cobden del liberismo i trattati di libero commercio tra Francia Inghilterra Regno di Sardegna e così via bene con la prima guerra poi con l'unificazione tedesca si torna politiche mercantilistiche il dumping e così via tutto questo trionfa dopo la prima guerra mondiale mentre l'evoluzione economica porta all'interdipendenza la dimensione politica richiude gli stati su se stessi e scrive Inaudi 1918 sottolineo la data 1918 scrive Inaudi bisogna distruggere e bandire per sempre il dogma della sovranità perfetta la verità è il vincolo non la sovranità degli stati la verità e l'interdipendenza dei popoli liberi non la loro indipendenza assoluta per mille segni manifestasi la verità che i popoli sono gli uni dagli altri dipendenti che essi non sono sovrani assoluti e arbitri senza limiti delle proprie sorti che essi non possono far prevalere la loro volontà senza riguardo alla volontà degli altri alla verità dell'idea nazionale noi apparteniamo a noi stessi bisogna accompagnare la verità della comunanza delle nazioni noi apparteniamo anche agli altri 1918 pensiamo cosa valgono queste parole oggi in piena globalizzazione mondiale e quindi in audita partendo dal concetto di crisi dello stato nazionale diceva la società delle nazioni può risolvere i problemi no perché perché non supera il dogma della sovranità perfetta la società delle nazioni era un insieme di stati che rimanevano sovrani quindi non c'era la creazione di un potere superiore agli stati cioè la federazione in grado di dare ordini di comandare direttamente sui cittadini e inaudi dava anche oltre a criticare la società e a contrapporre all'idea della società delle nazioni l'idea della federazione europea e inaudi dava anche una spiegazione della guerra mondiale che riprenderà poi anche dopo la seconda guerra mondiale cosa dice inaudi le due guerre mondiali sono due esempi due manifestazioni della necessità dell'integrazione europea le due guerre mondiali cioè inaudi diceva Guglielmo II o Hitler sono il frutto di una necessità storica cioè l'unificazione dell'Europa solo che l'unificazione dell'Europa condotta da Guglielmo II o da Hitler avviene inaudi usa un'immagine biblica con la spada di Satana e non con la spada di Dio cioè il ragionamento di inaudi è questo l'Europa deve unificarsi per necessità economiche perché gli stati nazionali sono in crisi perché lo sviluppo economico e sociale richiede di stare insieme richiede l'integrazione la Germania che è il paese che non ha lo spazio vitale chissà come mai sono i tedeschi che inventano la nozione di spazio vitale perché sono dei degenerati chissà perché non viene in mente in Inghilterra la teoria dello spazio vitale in Inghilterra lo spazio vitale ce l'ha all'impero il più grande impero del mondo la Germania dopo l'unificazione con Bismarck in piena espansione economica ha bisogno dei mercati in un mondo che si va sempre più restringendo l'America ormai sta diventando il cortile di casa degli Stati Uniti in Asia emerge il Giappone che elabora le sue teorie sulla sfera sulla grande sfera di coprosperità asiatica l'Africa è spartita tra Francia e Inghilterra e la Germania che fa non per giustificare il militarismo tedesco sia ben chiaro ma per capire perché la Germania nel novecento mette in atto due tentativi egemonici che si rivolgono contro l'Europa cioè cercano di unificare l'Europa nel 1942 l'Europa era unificata peccato che è stata unificata con la spada di Satana Einaudi dice appunto che le guerre mondiali sono l'espressione di questa necessità storica di unificare l'Europa e dice bisogna farla con la spada di Dio cioè il consenso dei popoli cioè la federazione europea Agnelli e Cabiati in 1918 sempre riprendono in un libro Agnelli il fondatore della Fiat e Cabiati un economista liberale riprendono le argomentazioni di Einaudi e dicono appunto anche loro la società delle nazioni sarà un fallimento ci vuole la federazione europea Agnelli parlava ovviamente il problema di Agnelli era quello di vendere le automobili Agnelli immaginava un grande mercato europeo integrato non a caso Agnelli fa costruire la nuova fabbrica quella il lingotto durante la guerra 1917 parte la costruzione del lingotto nell'idea di un mercato di un grande mercato europeo finita la guerra come nel 57-58 con i trattati di Roma Valletta raddoppierà Mirafiori per attrezzare la Fiat ad agire su un mercato europeo bene Agnelli diceva la società delle nazioni sarà un fallimento appunto perché gli strumenti della società delle nazioni non sono in grado di risolvere i problemi e Agnelli diceva bisogna di fronte ai problemi che si porranno alla fine della guerra la smobilitazione dell'esercito eccetera bisogna creare posti di lavoro cioè bisogna allargare il mercato perché le industrie possano vendere e quindi investire e creare posti di lavoro bisogna risparmiare siamo in tema anche qui di questi giorni il tema della difesa europea Agnelli e Caviati nel libro dicevano nel 1914 in Europa la somma degli eserciti nazionali arrivava a quasi due milioni di soldati facciamo un esercito europeo bastano 300.000 soldati per un esercito europeo pensiamo ai risparmi ai risparmi materiali ai risparmi morali perché un esercito piccolo significa meno importanza alle caste militari meno militarismo e vi risparmio le altre considerazioni di questo libro di Agnelli e Caviati Federazione Europea o Lega delle Nazioni in cui anche qui 1918 si perorava Monnet critica la società delle nazioni Monnet il fondatore della CECA il fondatore del metodo poi delle comunità europee Monnet che dal 19 al 23 è il vice segretario generale della società delle nazioni lavorò Jean Monnet alla società delle nazioni come segretario generale allora ci credeva Monnet diceva ma sì la società delle nazioni è una bella cosa si baserà sulla buona volontà di collaborare eccetera nelle sue memorie scriverà mi sono sbagliato è stato un disastro la società delle nazioni non poteva funzionare perché c'era la sovranità assoluta degli stati e il diritto di veto difatti nella CECA e poi nel metodo delle comunità europee Monnet cercherà di superare appunto il diritto il diritto di veto in questi anni nascono il primo movimento europeista 1923 il conte Richard Cudenove Calergi fonda Pan Europa è il primo movimento europeista sull'esempio del movimento panamericano Calergi si sperava al movimento panamericano che proprio in quegli anni aveva tenuto un congresso a Santiago del Cile a Pan Europa aderiscono personaggi che poi molto importanti per il futuro dell'Europa Adenauer il futuro cancelliere tedesco Aristide Briand ministro degli esteri e primo ministro francese Benesch ministro degli esteri e poi presidente della cecoslovacchia Leon Blum socialista presidente del consiglio francese poi Paul Claudel Einstein Freud Heriot primo ministro francese Salvador de Madariaga Thomas Mann Ortegi Gasset Rainer Maria Rilke Jules Romain Miguel de Unamuno Paul Valéry Stefan Zweig Pan Europa diffonde l'idea appunto coopera insomma diffondere nella società del dopoguerra l'idea dell'integrazione europea ci sono tutta una serie di iniziative per creare un'unione siderurgica franco-tedesca che falliscono che non vanno avanti ma si pensa a una convenzione sul bacino del Reno un siderurgico lussemburghese Meirisch riunisce nella sua tenuta in Lussemburgo tedeschi francesi inglesi eccetera per cercare di far cooperare gli europei nascono tutta una serie di comitati eccetera c'è anche un'iniziativa governativa viene presa dalla Francia lo stato più vecchio lo stato nazionale più vecchio e glorioso d'Europa 1929 ministro degli esteri o presidente del consiglio non ricordo cosa fosse allora Briand 1929 Briand tiene un discorso all'assemblea della società delle nazioni settembre 1929 quello che dice riassunto in uno slogan lui non si espresse così lo slogan fu giornalistico comunque il concetto è questo unirsi operire Briand diceva dobbiamo metterci insieme perché altrimenti non sopravviveremo siamo troppo piccoli come stati per andare avanti da soli e presentò un'idea un progetto di integrazione europeo peccato che fosse contraddittorio perché diceva che bisognava istituire una sorta di legame federale mantenendo la sovranità assoluta degli stati tatticamente si può capire questa espressione perché il legame federale è contraddittorio col mantenimento della sovranità assoluta il federalismo è il superamento della sovranità assoluta come l'europeismo e il superamento del nazionalismo il progetto fu accolto con cortesia ma con cortesia diplomatica ma con freddezza l'anno dopo presentò un memorandum ma l'anno dopo siamo già nel 1930 è scoppiata la grande crisi del 29 l'Europa si indirizzava verso un'altra storia e di fatti in piano il progetto Briand rappresenta anche emblematicamente la fine dei progetti europeisti degli anni 20 gli anni 30 vedono l'Europa a prendere l'indirizzo che sappiamo curiosamente però in due paesi europei uno è la Svizzera l'altro curiosamente l'Inghilterra si sviluppano i movimenti federalisti in Svizzera 1930 nasce l'Unione Europe che diventa poi Ligue pour les Etats Unis d'Europe e poi nel 34 Europa Union e in Gran Bretagna nel 1938 curiosamente in Gran Bretagna perché come sappiamo è il paese che ha una certa visione poco entusiastica dell'integrazione europea nel 1938 nasce il primo movimento uno dei primi movimenti federalisti Federal Union 1938 un mese dopo gli accordi di Monaco in cui le democrazie occidentali accettarono la volontà di Hitler sui sudetti federal Union parteciparono grossi personaggi inglesi e negli anni trenti in Inghilterra si sviluppò una letteratura federalista ricordo soltanto gli scritti di Robbins l'economia pianificata e l'ordine internazionale e le cause economiche della guerra e poi Lord Lothian il pacifismo non basta in cui di nuovo si dice che gli stati nazionali sono finiti che l'Europa deve unirsi in un vincolo federale e soprattutto Lord Lothian nel pacifismo non basta critica di nuovo la società delle nazioni e dice la guerra l'origine della guerra sta nella sovranità assoluta cioè sta nell'anarchia internazionale caratterizzata dalla sovranità assoluta degli stati cioè mentre dentro gli stati ci sono dei conflitti fra i cittadini ma i conflitti fra i cittadini sono risolti sulla base del diritto si va in tribunale non si fa giustizia da sé c'è la legge sopra i cittadini e i tribunali nella società internazionale non c'è questo nella società internazionale ci sono stati sovrani in caso di controversie in ultima istanza si ricorre alla guerra ecco allora la necessità di creare un ente superiore agli stati basato sul diritto cioè la federazione uno stato garante della pace concludo con la seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale come noto si avvia l'integrazione finalmente l'integrazione europea l'integrazione europea da sogno degli umanisti di Dante di Erasmo e così via diventa realtà ma voglio ricordare un elemento durante la guerra che diventa paradigmatico dello sviluppo dell'integrazione europea 1940 16 giugno 1940 la Francia invasa dalla Germania dopo la cosiddetta la strana guerra la drol de guerre la Germania nazista sfonda appunto il fronte occidentale la Francia sta per arrendersi l'Inghilterra è in crisi la caduta della Francia la resa della Francia avrebbe significato il passaggio alla Germania nazista dell'impero francese con le sue ricchezze e della flotta francese e quindi il rafforzamento della flotta tedesca e l'eventuale invasione dell'isola l'Inghilterra è in crisi è in forte crisi l'Inghilterra sta per rimanere da sola a fronteggiare la Germania nazista cosa capita 16 giugno 1940 Churchill che sappiamo anche lui come tutti gli inglesi aveva una certa impostazione avrà una certa impostazione dell'integrazione europea cioè quella intergovernativa non federale Churchill il 16 giugno 1940 lancia un messaggio alla Francia che sta per cedere e propone un'unione anglo-francese dice cioè propone un unico Stato un unico esercito un unico Parlamento un'unica cittadinanza questa idea dell'unione fu ispirata da dei privati cioè cosa significa il progetto di unione anglo-francese del 16 giugno 1940 purtroppo la Francia non lo accettò lo stesso 16 giugno il governo francese diede le dimissioni fu il governo Reinault fu sostituito dal governo Pétain favorevole alla resa sarà poi il capo della Repubblica di Vichy eccetera ma qual è il significato di questa dichiarazione cioè in un momento di crisi il contesto storico è quello della crisi in Europa c'è una crisi l'Inghilterra è in crisi ci sono degli ispiratori privati Monet Toynbee e così via ci sono degli statisti illuminati Churchill dal lato inglese De Gaulle dal lato francese che impugnano abbracciano questa proposta cioè la proposta la soluzione per uscire dalla crisi è l'Europa in un momento di crisi ci si per Churchill pensate per Churchill per De Gaulle il campione poi dell'Europa delle patrie dell'Europa degli stati nel momento di crisi la soluzione è l'Europa neppure l'Europa federale è un'unione franco-britannica e si dice nella dichiarazione aperta agli altri stati d'Europa finita la guerra questo è molto importante perché questa dichiarazione diventa paradigmatica del processo di integrazione europea cioè l'Europa avanzerà di crisi in crisi finora storicamente le crisi sono state salutari per l'Europa cioè hanno spinto verso l'integrazione chiudo e quindi non ho tempo per dimostrare con riferimenti storici dalla dichiarazione Schumann allo SME fino alla moneta unica eccetera i momenti di crisi in cui gli europei sono andati avanti anche questa crisi un anno fa Habermas in un'intervista disse dalla crisi economica può nascere l'Europa politica sono convinto che appunto le crisi possono essere sono salutari possono far avanzare mettono gli stati di fronte alla contraddizione della insufficienza dei meccanismi intergovernativi per risolvere i problemi gli stati si toccano con mano che i meccanismi confederali intergovernativi non sono in grado di risolvere i problemi e quindi bisogna rafforzare l'integrazione non sfasciare l'Europa non tornare indietro non tornare alle monete nazionali o meno Europa nei momenti di crisi ci vuole più Europa perché è così difficile avere più Europa e termino con questa citazione da Machiavelli sesto capitolo del principe che ci fa capire perché è così difficile fare la federazione europea cioè introdurre secondo il linguaggio di Machiavelli ordini nuovi scriveva Machiavelli nel principe debba si considerare come non è cosa più difficile a trattare né più dubbia a riuscire né più pericolosa a maneggiare che farsi capo a introdurre nuovi ordini cioè nuove istituzioni perché lo introduttore ha per nemici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene cioè tutti quelli che ne approfittano degli ordini vecchi e ha per tiepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene la quale tiepidezza nasce parte per paura degli avversari che hanno le leggi dal canto loro cioè gli ordini vecchi parte dall'incredulità degli uomini li quali non credono in verità le cose nuove se non ne vengono nata una ferma esperienza allora spieghiamo ai nostri giovani la necessità di introdurre ordini nuovi in Europa e di creare ordini nuovi in Europa nell'interesse di tutti noi e nell'interesse soprattutto dei giovani grazie dell'attenzione grazie grazie al professor Roberto Morelli adesso Corrado Malandrino dell'università del Piemonte orientale la resistenza antifascista e l'idea dell'unificazione europea grazie si sente si sente bene si la relazione dell'amico Umberto Morelli ci ha introdotti anzi ci ha fatto fare già un bel pezzo di strada nell'ambito appunto dei temi di questo corso ha dato un quadro generale ma non solo un quadro generale perché è entrato già in tutta una serie di temi di argomenti che riguardano anche la relazione che ovviamente tocca a me adesso no no ma non mi hai affatto portato via no no per nulla per nulla anzi è stato un bene perché appunto ha introdotto alcune nozioni alcune idee che sono necessarie no che avere presente no per capire come mai durante la resistenza che cronologicamente parlando per l'Italia comincia nel 1943 la resistenza antifascista ma per l'Europa no per l'Europa era già iniziata ben prima e molti italiani lottavano ben prima del 43 nella resistenza antifascista antinazista perché sono coordinati i due termini no ecco la relazione di Umberto Morelli ci ha già fatto capire molto del significato del tema generale scelto per questo corso e che pone l'accento no sulla Europa unita sull'unità europea come idea forza no questo tema dell'idea forza è un tema non così recente cioè l'unità europea è un'idea forza diceva Carlo Rosselli nel 1934 Carlo Rosselli il fondatore di che aveva scritto socialismo un'opera intitolata socialismo liberale e il fondatore di giustizia e libertà uno dei maggiori antifascisti assassinato dalla polizia segreta di Mussolini in Francia nel 1937 nel 1934 in un articolo intitolato europeismo e internazionalismo diceva che l'unità europea era un'idea forza per lottare contro il fascismo contro il nazismo per restaurare una democrazia federale non solo in Europa ma anche nella rinnovata Italia e qui troviamo già un tema che toccherà appunto a me sviluppare questa idea è centrale nella nascita e nello sviluppo della storia dell'integrazione europea nella storia concreta dell'integrazione europea di cui molte cose appunto ha già detto Umberto ed è centrale nello sviluppo dell'integrazione europea nei suoi primi 50 anni di storia purtroppo sta venendo meno negli ultimi anni a partire dall'ultimo grande risultato che era quello della convenzione europea per costruire un trattato che adottasse una costituzione europea con l'impasse che si è avuta nel 2005 con i famosi referendum francese e olandese che ha iniziato è stata una battuta dal resto i movimenti cosiddetti euroscettici alcuni dei quali a mio modo di vedere sono anche anti-europei non solo euroscetti perché euroscettico si può ancora capire ma anti-europei ci sono alle prossime elezioni del prossimo Parlamento europeo nel maggio del 2014 noi avremo una miriade di partiti non euroscettici ma anti-europei che si presenteranno alle elezioni ma con lo scopo di fare una politica di regressione di disgregazione dei risultati dei primi 50 anni di integrazione europea ecco all'inizio e durante questi 50 anni tramite attraverso tutte le crisi di cui appunto ha parlato per cenni ma comunque ne ha parlato anche Umberto emergeva però la necessità l'impellenza di portare avanti di sviluppare alcune idee forza ecco questo concetto di idea forza ma appunto bisogna capire una cosa che i progetti che nascono prima di Monet prima della grande iniziativa come dire funzionalistico comunitaria che però ha portato avanti concretamente il processo di integrazione europea di Jean Monet e di Robert Schumann naturalmente la coppia ha sempre agito insieme un'idea che emerge tra il 48 il 50 e il 51 poi con il primo trattato di Parigi che ha dato origine alla cieca ma prima durante la guerra e durante la resistenza antifascista in Italia e negli altri paesi occupati dalla Germania ecco che emergono dei progetti delle progettualità che si traducono in documenti in testi non solo in idee in movimenti concreti all'interno dei movimenti di liberazione dei movimenti resistenziali ma perché nascono queste cose in parte l'abbiamo già capito alcune idee di Einaudi in modo particolare di Agnelli e Cabbiati sono cose che sono state già citate e ci fanno capire che questi progetti non sono dei funghi che dopo una pioggia spuntano ci sono delle idealità degli intrecci che partono da lontano la relazione di Umberto è stata molto utile perché io adesso tento di fare una sintesi non della sua relazione ma di alcuni motivi che ci fanno poi capire il perché delle progettualità unitarie europee durante la resistenza una sintesi che è facile perché è una sintesi che è stata fatta all'interno di una storiografia della integrazione o della costruzione come in Francia meglio si ama dire dell'Europa Unita la storiografia in particolare io mi riferisco a quella tedesca Wilfried Loth e Wolfgang Wessels che hanno scritto un libro per me molto importante sulle teorie della storia dell'integrazione europea in cui hanno elaborato un paradigma paradigma voi siete tutti docenti sapete cosa vuol dire paradigma paradigma nell'ambito è una come dire definizione di poche parole per capire un paradigma del verbo sapete tutti che cos'è ma nel campo della ricerca nel campo quindi diciamo in un altro campo che non è quello della grammatica nel campo della ricerca un paradigma è una sentenza una definizione breve che però ci fa capire e ci fa interpretare un periodo storico una storia dal punto di vista delle motivazioni e degli eventi che poi produce quindi il paradigma che è stato denominato da questi autori tedeschi di cui ho accennato il paradigma dei quattro deficit che hanno condotto l'Europa a a una a un risultato di autodistruzione come è stato molto eloquentemente descritto da Umberto Morelli questo paradigma si compone di quattro idee di quattro deficit il primo è quello del conflitto permanente della storia europea della storia moderna e contemporanea europea guardate bene che non doveva andare così nel 1648 sì i grandi trattati no di Westfalia no avevano decretato che superata la guerra di religione la fase della guerra di religione si sarebbe aperto un periodo di pace per l'umanità bene dal 1648 alla prendiamo il 1918 o il 1945 come date ad quem no è stato per l'Europa il periodo delle del maggior numero di guerre di tipo prima locale e poi ovviamente continentale e poi mondiale il conflitto permanente ma nell'ottocento esisteva la santa alleanza aveva licenziato quello che era il famoso concerto delle potenze chi di voi pratica la storia lo sa benissimo che tutte le decisioni nell'ottocento venivano prese all'interno di un concerto delle grandi potenze che si mettevano d'accordo e il loro scopo era garantire la pace dell'Europa il concerto delle potenze il concerto delle potenze il concetto di potenza è alla base della grande storiografia nazionale dell'ottocento in particolare sempre della grande storiografia tedesca da Ranke a Traitsche a Meineke per ultimo Sergio Pistone ha studiato molto bene Friedrich Meineke quindi sa molto bene che cosa significa questo la grande potenza il concerto delle grandi potenze delle cinque poi delle sei grandi potenze doveva aveva lo scopo di garantire la pace e invece no la pace non solo non è mai stata garantita né in quella che è stata chiamata l'età dell'imperialismo per per questa metamorfosi interna alla concezione nazionale che da una concezione come nei più grandi teorici italiani tedeschi ma anche francesi no la concezione nazionale la concezione della creazione del popolo nazionale di un sistema nazionale libero indipendente la metamorfosi di questa concezione che noi vediamo in Italia in teorici in intellettuali a partire per esempio da Giuseppe Mazzini grande teorico della nazionalità italiana ecco la concezione come dire romantica risorgimentale amante della libertà amante della democrazia che vige all'interno dei decenni centrali dell'ottocento si metamorfizza si cambia all'interno diventa una concezione prima imperialistica poi estrema del nazionalismo che porta a una concezione per cui tramite un processo che un grande sociologo italo tedesco Roberto Michels ha chiamato legge ferrea della trasgressione della trasgressione i popoli una volta che hanno raggiunto la loro unità e indipendenza diventano come dire vogliosi di nuovi acquisti al di là del loro territorio nazionale mirano alle colonie naturalmente in un meccanismo che è stato benissimo descritto da Umberto Morelli mirano alla creazione di imperi coloniali e nella conflittualità che si genera nella creazione di imperi coloniali ecco che si arriva a quella conflitto permanente il concerto delle potenze andando ben oltre l'ispirazione che aveva nell'ottocento diventa la base di una conflittualità permanente di una anarchia internazionale una vera e propria anarchia internazionale che è alla base della crisi dello stato nazionale di cui ci ha parlato Umberto prima questo è il primo deficit che è stato individuato nella storia europea tra 8 e 900 ma il secondo deficit è strettamente collegato è il problema della Germania la Germania come è stato detto non poteva accettare che una volta che le grandi statualità nazionali europee il Regno Unito di Gran Bretagna la Francia ma anche altri il Belgio i Paesi Bassi no? che avevano conquistato i tre quarti del mondo l'Africa l'Asia l'America Latina va bene c'era un processo di decolonizzazione nell'America Latina in cui la Spagna perdeva parte del suo impero però c'erano pochi posti Guglielmo II il terzo Kaiser dell'impero Guglielmino no? disse una famosa frase che poi è entrata quelle frasi che entrano nell'orecchio di tutti no? vogliamo anche noi un posto al sole il posto al sole la Germania voleva il posto al sole ma non solo la Germania ma anche l'Italia di Francesco Crispi nella fine dell'Ottocento voleva il suo posto al sole e di qui il colonialismo di qui l'imperialismo di qui la conflittualità ma soprattutto ci interessa di qui il problema della Germania la Germania che è un paese la Germania intendo dire tutti quelli che parlano tedesco che non è solo la Germania come noi siamo forse ora abituati a considerare ma che è la Mitteleuropa l'Europa centrale un paese che aveva cento milioni di abitanti e che reclamava che reclamava quindi un suo posto come dire un suo rilievo che in quell'epoca cioè nell'epoca dell'imperialismo è un rilievo imperiale che necessariamente porta alla guerra alla guerra come è stato detto è stato detto nel manifesto di Ventotene per esempio da ultimo ma è la guerra di tutti contro tutti cioè quella famosa massima hobbesiana che per Hobbes è applicata agli uomini e che induce tramite un processo non lineare ma comunque un processo come dire strutturale induce gli uomini a creare un patto e a sottomettersi per poter creare uno stato in cui è garantita la sicurezza ecco la guerra di tutti contro tutti è la situazione che deriva dal fatto che alla Germania non veniva riconosciuto un posto e quindi la Germania entrò nella sindrome della potenza che doveva farsi valere e ora però questo era uno dei grandi deficit il secondo grande deficit che ha portato a una situazione che appunto andò poi a finire in un processo di autodistruzione con le due guerre mondiali il terzo deficit è più semplice è stato spiegato molto bene ed è quello della integrazione economica il capitalismo nelle sue varie fasi porta i paesi europei parlo di paesi europei perché a quell'epoca era l'epoca dell'eurocentrismo il mondo erano i paesi europei più gli Stati Uniti d'America ma gli Stati Uniti d'America tra 800 e 900 non hanno ancora questa centralità quindi tutto si decideva in Europa era l'epoca dell'eurocentrismo i paesi europei però hanno delle economie e questo è stato detto molto bene non è stato citato lo cito io da Otto Bauer e da Karl Renner due austro-marxisti perché l'idealità europeista non è solo appannaggio dei liberali ma anche dei socialisti anche i socialisti hanno contribuito molto con le loro opere di ricerca allora Otto Bauer ha detto molto bene in un'opera del 1908 sulla questione nazionale ha detto molto bene che in Europa si erano costruiti tutti una serie di strumenti che erano convenzioni che erano patti che erano trattati che dovevano supportare una vita integrata interrelezionata più stretta tra le economie europee ma la forma nazionale dello Stato quindi dei poteri che decidevano quindi le frontiere nazionali impedivano di andare oltre faceva riprendeva quella famosa immagine delle città greche le città greche che a un certo punto essendo divenute sempre litigiose ma nell'epoca diciamo in cui emerge la potenza romana prima la potenza macedone e poi la potenza romana avevano di fronte a loro la prospettiva o di unirsi di federarsi il concetto di federazione è anche nella storia greca oppure di perire sappiamo tutti come è andata a finire sono perite le città greche sono diventate prima una conquista di Filippo e di Alessandro e poi dell'impero romano ecco Ottobauer diceva gli stati nazionali europei hanno come poi efficacemente ha detto anche Luigi Einaudi hanno sono polvere senza sostanza diceva Luigi Einaudi ecco Ottobauer non disse polvere senza sostanza ma disse non hanno la dimensione la massa critica per poter da soli portare avanti una prospettiva di sviluppo devono unirsi federarsi l'idea della federazione europea c'è nel 1908 in Ottobauer siamo nel 2013 2014 e dobbiamo assistere a persone ma anche colte che hanno avuto una formazione io venendo qui stamattina sentivo un radiogiornale di un esperto di banca e di finanza che diceva che l'unica strada possibile è uscire dall'euro per l'Italia ora come si può dire una castroneria di questo genere senza sapere che cosa questo può significare concretamente per tutti noi eppure noi assistiamo a questo quindi il problema dell'integrazione economica delle interrelazioni economiche europee ma il quarto il quarto deficit maggiore rilevato in questo paradigma era il deficit che io rendo con una frase di non riuscire a parlare con una voce sola che è una conseguenza di tutto quello che è stato detto finora cioè i paesi europei in quell'epoca non parlavano con una voce sola il famoso concerto delle potenze la cui ambizione era quella di riuscire a parlare con una voce sola perché questa era l'ambizione del concerto delle potenze non riusciva strutturalmente a parlare con una voce sola anzi si divideva continuamente su tutti i temi ecco questi questi quattro grandi deficit non è che sono la creazione di lott e di vessels oppure di noi che facciamo storia dell'integrazione europea sono idee che vengono da lontano vengono da lontano alcune le abbiamo viste emergere dal dibattito degli anni venti degli anni trenta io prima ho iniziato con Carlo Rosselli il fondatore il capo di giustizia e libertà giustizia e libertà che poi ha dato origine al secondo partito d'azione nella storia italiana cioè il primo partito d'azione è quello di Mazzini dei Mazziniani il secondo partito d'azione è quello che ha preso origine appunto dall'esperienza di giustizia e libertà e che è vissuto fino agli anni quaranta quasi alla fine degli anni quaranta ora l'idea della come dire della necessità di superare lo stato di conflittualità permanente tra i paesi europei noi lo vediamo nell'ottocento Mazzini Mazzini concepiva il processo di costruzione dell'indipendenza e della libertà italiana all'interno di un processo di costruzione di una unione europea che sostituisse la santa alleanza e che fosse l'unione europea nel nome della libertà e della democrazia del principio repubblicano come diceva Mazzini ma non solo lui Carlo Cattaneo un altro autore di cui voi avete già sentito parlare tante volte ce ne tanti io adesso vi dico questi due ma persino Giuseppe Garibaldi che era un guerra fondaio come tutti quanti sappiamo ma concepiva il processo di indipendenza e di unità nazionale non solo italiana perché poi lui è andato a combattere in tante altre nazioni come un prodromo una premessa alla costruzione di una Europa unita e lo ha anche scritto in un memorandum famoso del 1860 quando aveva finito l'impresa dei mille e stava a Napoli a onore del vero devo dire che in quel momento lì uno dei suoi consiglieri era Carlo Cattaneo l'autore della parola d'ordine degli Stati Uniti d'Italia quindi con una visione dell'indipendenza nazionale di tipo federale rispetto a quella di Mazzini che era invece di tipo unitario ma che concepiva gli Stati Uniti d'Italia all'interno degli Stati Uniti d'Europa e Carlo Cattaneo ha adoperato proprio questa formula Stati Uniti d'Europa adesso non entro nel merito però perché Carlo Rosselli ma perché anche Einaudi perché anche tutta una serie di altri europei più o meno federalisti hanno nella loro idea dell'Europa questa visione che mira all'unità che mira all'unificazione ma perché è tipica del risorgimento italiano tutto il risorgimento anche Cavour pensava così allora perché però viene fuori negli anni trenta questa cosa cioè è andata un po' come dire non ha costituito elemento di dibattito prima della prima guerra mondiale no ma emerge dopo la prima guerra mondiale in quella che viene chiamata l'antre guerre cioè tra le due guerre o la Zwischenkrieg come dicono i tedeschi no cioè dalla prima alla seconda guerra mondiale perché spuntano fuori queste cose perché a un certo punto Rosselli scrive bisogna andare a studiare di nuovo Cattaneo ma lo dice anche Gramsci dal carcere nei quaderni del carcere Gramsci scrive questa cosa tutti qua perché il problema è che la metamorfosi del principio nazionale voi vedrete tutte queste cose nelle belle dispense che vi sono state date la metamorfosi del principio nazionale si accompagna alla metamorfosi della concezione dello stato nazionale che avviene all'interno del positivismo giuridico nella seconda metà dell'ottocento e nei primi decenni del novecento che porta a quella che un altro grande antifascista Silvio Trentin il papà di Bruno Trentin per intenderci che è stato uno dei primi ad andare in esilio nel 1926 quando il fascismo ha preso il potere scrisse e identificò come stato la tria cioè il positivismo giuridico per carità non entro nel merito come dire scientifico di questa questione ma non posso non dire che la concezione come dire dei diritti naturali gius naturalistica che è alla base di un'idea potenzialmente liberale è la base dell'idea di Locke da Locke in poi e che prende campo tra seicento e settecento viene sostituita da una concezione positivistico-giuridica che vede come la matrice dei poteri dello stato in se stesso dall'alto i cittadini diventano sudditi anche negli stati liberali i cittadini diventano sudditi lo stato diventa stato latrico egheliano nel senso peggiore per intenderci ecco quindi che negli anni trenta quando il fascismo prende il potere si sviluppa una riflessione critica ma anche autocritica Silvio Trentino era un giurista e aveva condiviso tutti gli stilemi del positivismo giuridico finché non vede che questi stilemi ma parliamoci chiaro nel 1921 22 23 fino a quando Matteotti non viene assassinato nel 1924 molti moltissimi liberali italiani che temevano l'avvento di un'epoca comunista quindi la rivoluzione sovietica che si estendeva su tutta l'Europa occidentale e i liberali anche quelli italiani non solo negli altri paesi hanno appoggiato Mussolini hanno appoggiato il movimento fascista finché non hanno visto finché bruciava le case del popolo andava tutto bene quando ha incominciato a non tenere in nessuna considerazione il Parlamento allora hanno incominciato a capire che c'era qualcosa che proprio non andava e quindi per quello dico una riflessione critica e autocritica perché Silvio Trentino è stato il primo ad ammettere onestamente questo fatto ed è il primo a parlare insieme a Luigi Sturzo devo dire ad onore del vero di tendenza statolatrica e totalitaria dello stato moderno siamo nel 1924 25 quando emergono queste cose ecco che si incomincia a collegare il discorso della metamorfosi dell'idea nazionale della metamorfosi del concetto di potenza dell'anarchia internazionale delle cause che portano a questa anarchia internazionale con il discorso di una critica nei confronti dello stato moderno sempre Carlo Rosselli nel 1933 scrive un altro articolo intitolato oltre lo stato in cui riprende questi temi e cerca di far capire ai suoi lettori ai seguaci che l'antifascismo non è semplicemente un movimento contro il fascismo di tipo politico ma è un movimento contro il fascismo inteso come una concezione di dimensione totalitaria questo è un tema che poi naturalmente verrà sviluppato negli anni 50 da Anna Arendt e da altri ma questo tema nasce prima la tendenza alla dittatura la tendenza al monolitismo la tendenza alla concentrazione enorme del potere politico nello stato moderno la dimensione totalitaria che come è stata spiegata da Umberto prima sono cose che diventano visibili e vengono individuati come elementi di creazione di creazione come dire di una deformazione dello spirito europeo dello spirito che nel liberalismo e anche nei movimenti democratici eccetera aveva portato a una concezione e a un tipo di società che era già una società in qualche modo da un punto di vista culturale del costume europea era nella seconda metà del novecento prima di questa grande distorsione di questa grande deformazione in Europa va bene con il limite naturalmente dato dalle risorse che ognuno di noi poteva avere che gli individui potevano avere a disposizione ma si viaggiava tranquillamente c'era un'Europa della cultura che era ampiamente un'Europa unita peccato che tutto questo è andato perso nell'età dell'imperialismo ecco che negli anni trenta quindi nei movimenti antifascisti e per movimenti antifascisti intendo dire sia quelli liberali sia quelli non liberali ma anche sociali socialisti io faccio dei nomi Filippo Turati grande capo del partito socialista unificato collaboratore di Matteotti il quale prende una posizione che insieme di battaglia antifascista lotta per la rifondazione della democrazia e una battaglia che deve servire a rifondare l'Italia questo in una famosissima intervista del 1928 Claudio Treves che è stato direttore della critica sociale poi Giuseppe Emanuele Modigliani direttore dell'Avanti no? cioè Ugo Guido Mondolfo altro socialista no? ma non solo in Italia prima ho parlato di due austro-marsisti cioè marxisti e socialisti austriaci ma il grande capo o i due grandi capi diciamo così del socialismo continentale europeo Edward Bernstein e Karl Kowski uno revisionista l'altro più come dire marxista tra virgolette no? ma erano i grandi capi riconosciuti i grandi ideologi del socialismo europeo entrambi condividevano questa posizione di critica alle deformazioni di tipo nazionalistico e di indirizzo verso la creazione di una Europa unita ci stavo arrivando ci stavo arrivando anche all'interno del come dire di un mondo socialista e socialista rivoluzionario che era molto variegato accanto a un Lenin che era che fu assolutamente i bolshevichi il Lenin furono assolutamente contrari al processo dell'integrazione europea e di qui il partito comunista italiano prima il partito comunista d'Italia e poi il partito comunista italiano fino alla rivoluzione che fece Enrico Berlinguer e prima di lui Amendola ecco Giorgio Amendola prima fino agli anni sessanta ci spiega una contrarietà del mondo comunista con qualche eccezione Terracini per esempio Umberto Terracini e invece andava contro beh era uno il mondo comunista invece tutte le altre forze antifasciste italiane condividono ma persino Troschi come si diceva prima anche Troschi con delle motivazioni un po' diverse basate soprattutto su argomentazioni di tipo economico politico però anche lui arrivava all'idea che l'Europa insomma l'Europa l'Unità Europea come è stato detto citando Einaudi si poteva unire ecco che l'Europa si poteva e si dovesse unire o con la spada di Satana o con la spada di Dio questo è un concetto che in Europa nel mondo degli intellettuali europei ha diritto di cittadinanza fin dalla fine del Settecento inizio dell'Ottocento anche Napoleone anche Napoleone prima di Hitler cercò di unificare l'Europa perché? ma perché e questo è il terzo punto del famoso deficit no? di tipo economico le nazioni gli stati nazionali le economie nazionali andavano avanti e scoprivano che la forma politico istituzionale dello Stato nazionale non bastava bisognava superarla andare in direzione di una federazione ora queste idee queste idee che emergono negli anni 30 cito Silvio Trentin che di cui ho parlato poco fa scrive nel 1935 un trattato era un giurista un trattato intitolato la crisi del diritto e dello Stato 1935 un trattato spesso così in cui il filo conduttore è non basta il limite il livello dello Stato nazionale centrale bisogna fare una rivoluzione strutturale cambiando la natura dello Stato nel senso federale e creando in Europa la dimensione della federazione europea queste idee le riprende durante la resistenza perché lui fa la resistenza in Francia era uno dei capi della resistenza francese nel 1941 e nel 1943 ritorna in Italia e diventa uno dei capi della resistenza italiana capo della resistenza veneta fino al 1944 e Silvio Trentin che viene però catturato dai repubblichini portato in carcere siccome soffriva di Angioma angina pectoris è in carcere per le sofferenze che dovete subire in carcere morì nel marzo del 1944 ma prima di morire scrisse una serie di opere una di queste si chiama Liberare e Federare e scrisse due articoli sulla futura costituzione italiana e sulla futura costituzione francese in cui uno dei primissimi sono degli abbozzi di articolati addirittura uno dei primissimi articoli è la Repubblica federale italiana fa parte della Repubblica federale europea uno dei primissimi articoli di questi abbozzi perché? ma perché le due cose sono sempre andate insieme ecco io già mi sono inoltrato a parlare di queste grandi progettualità di tipo resistenziale che nascono negli anni 30 ma anche il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita per la federazione europea che è scritto a quattro o a sei mani perché a quattro mani di sicuro da Piero Spinelli e da Ernesto Rossi ma c'era anche Eugenio Colorni che è poi quello che nel 1944 Eugenio Colorni un socialista tra parentesi uno dei socialisti veri tra parentesi che lo pubblica nel 1944 ma quest'opera questo manifesto prende corpo a partire dall'inizio della seconda guerra mondiale perché Spinelli che è un ex comunista ma uno di quelli proprio che ci credevano tanto stalinisti e conosce Ernesto Rossi il quale invece faceva parte di giustizia e libertà e che entrambi si trovano perché condannati dai tribunali speciali si ritrovano prima ognuno fa la sua strada perché in realtà Spinelli era già 14 o 15 credo 14 anni che era in galera invece Rossi arriverà dopo verso la fine nella seconda metà degli anni venti si ritrovano dove a Ventotene Ventotene che è questa bellissima isola che adesso è oggetto di vacanza di film le ferie d'agosto chi è che non ha visto questo film ferie d'agosto ecco e in questa che è un'isola di confino quindi non è più il carcere hanno fatto anni e anni di carcere sono stati mandati al confino nel 1939 e lì quando scoppia la guerra per il modo in cui scoppia e per l'entità la dimensione di questa nuova guerra ha detto benissimo Umberto le dimensioni anche tecnologiche nuove di questa guerra capiscono benissimo che questa guerra specialmente quando l'Italia entrerà in guerra nel 1940 con i suoi fiaschi ripetuti capiscono benissimo che questa guerra andrà nella direzione di mettere a nudo la crisi dello Stato nazionale per i motivi che vi sono stati detti poco fa e con la distruzione di tutti gli Stati nazionali da parte del più forte cioè da parte della Germania nazista e quindi prevedono che la crisi dello Stato nazionale andrà a finire in che cosa? nella creazione con la spada di Satana di un impero europeo ma sanno anche che come era già successo nella prima guerra mondiale l'ingresso che gli Stati Uniti entrano nel 1942 in guerra e quindi gli Stati Uniti sono ancora neutrali in questo periodo ma prevedono che gli Stati Uniti dovranno necessariamente entrare in guerra per quel conflitto tra come dire statualità che hanno ispirazioni e prospettive diverse lo Stato continentale quello tedesco lo Stato marittimo quello degli Stati Uniti poi questa cosa verrà teorizzata da Schmidt nel secondo dopoguerra ecco che sanno prevedono intuiscono grazie anche a un contatto che hanno con Einaudi che li mette in contatto con una letteratura federale federalista anglosassone no? infatti c'è un nesso strettissimo tra i federalisti inglesi degli anni 30 e il manifesto di Ventotene sanno quindi che questa crisi produrrà la distruzione non solo degli stati nazionali conquistati dalla Germania ma anche dalla Germania e quindi capiscono e lo scrivono dopo discussioni accese anche perché si devono convincere la vicenda erano due tipi molto molto dotati di molte capacità dialettiche sia l'uno sia l'altro poi con l'intervento verso la fine di Colorni che prende parte alle discussioni finali ma non redige Colorni su questo è molto preciso lui non ha redatto il manifesto di Ventotene che opera quindi solo di Spinelli e di Rossi ma però lo completa e lo pubblica nel 1944 ma capiscono ecco quindi che questa crisi mondiale che prima di tutto una crisi delle statualità nazionali europee non potrà fare altro che produrre quella situazione che per la prima volta faciliterebbe il passaggio alla creazione di una Europa federale di una Europa unita perché perché seguono quell'indicazione di cui prima abbiamo ascoltato le motivazioni teoriche che essendo la sovranità esclusiva degli stati nazionali la radice e il motivo fondamentale delle guerre dell'impossibilità di arrivare a una vera integrazione del come dire avendo la Germania non più quel peso che ha sempre avuto negli ultimi cento anni tra ottocento e novecento ecco che finalmente essendo gli stati nazionali distrutti non essendoci più le sovranità bisognerà ricostruire che cosa e questo è il punto fondamentale ed è il punto più importante del manifesto di Ventotene invece di ricostruire gli stati nazionali ricostruiamo la cioè costruiamo per la prima volta una federazione europea facendo un'assemblea costituente europea e dopo ricostruiamo gli stati nazionali all'interno della federazione europea questo che è stato definito il prealable del manifesto di Ventotene cioè la condizione sine qua non la condizione che poi costituisce anche l'originalità maggiore del manifesto di Ventotene perché poi negli aspetti come dire di sostegno a una visione liberal democratica di sostegno a una ricostruzione economica sociale dei paesi all'insegna di un socialismo liberale non c'è tanta differenza con altri autori dell'antifascismo della resistenza antifascista ma questo cioè di dire di invertire il processo logico perché logicamente tutti in Italia e anche negli altri paesi distrutti dalla seconda guerra mondiale cosa pensavano facciamo la ricostruzione dei nostri paesi una ricostruzione che è economica che è sociale addirittura in Italia voi sapete che l'Italia era separata in due c'era il regno del nord c'era il regno del sud era invaso il nord dai tedeschi dai nazisti il sud pian piano liberato ma l'Italia era proprio divisa allora l'idea qual'era? ricostruiamo le basi nazionali dei paesi quindi ricostruiamo gli stati nazionali i quali poi cosa faranno? necessariamente questa era un'idea condivisa da parte di tutti i movimenti resistenziali da parte di tutti gli antifascisti nel 1943 44 45 e dopo ricostruiremo gli stati nazionali e faremo con gli stati nazionali non la federazione europea ma l'unione l'unità europea siamo a Torino vi parlo di uno che era il direttore della stampa nel 1943 Filippo Burzio Filippo Burzio un grande filosofo peraltro le sue opere sul demiurgo sulla dimensione del demiurgo ma grande europeista e grande cultore dell'autonomismo locale dell'autonomismo piemontese era nel 1943 il direttore della stampa e fu costretto quando naturalmente dal 1943 al 1945 i nazisti comunque riacquistarono il dominio del territorio finché non furono poi sconfitti definitivamente e quindi dovettero ritirarsi no? dovette andare in clandestinità il povero Filippo Burzio dovette andare in clandestinità e quindi ridiventò poi direttore della stampa nel 1945 ora Filippo Burzio pensava anche egli all'Europa come a una confederazione europea cioè l'idea che l'Europa è l'idea di Churchill è l'idea di De Gaulle è l'idea dei grandi patriarchi dell'europeismo che erano anche capi di governo capi di stato grandi generali Filippo Burzio era un grande professore universitario del Politecnico di Torino autore di teorie sul tiro delle artiglierie molto importanti che vengono studiate ancora oggi no? e però era anche un giornalista ed era il direttore della stampa era uno di quelli che contavano e pensava anche egli che l'Europa nel 1946 46 bisognava fare uno sforzo per costruire una confederazione europea è chiaro non c'è chiarezza è chiaro che non c'è chiarezza bellissima questa frase comunque non c'era una chiarezza teorica in molti dei sostenitori di un disegno unitario europeo perché? perché la chiarezza teorica e istituzionale dipendeva da una familiarità con gli esempi realizzati di federazione che avevano in pochi a conoscere la teoria federale del federalismo americano la teoria emiltoniana Madison e non erano mica tanti in Italia e in Europa cioè se noi prendiamo l'Italia oltre a Inaudi non è che ci fossero molti a conoscere questi temi e si conosceva l'esempio svizzero no? la confederazione svizzera ma senza sapere esattamente la distinzione che c'è tra una confederazione e una federazione tra uno stato federale una federazione e una confederazione una confederazione è fatta di stati come pensava Brian che è stato citato cioè stati una federazione di stati che si mettono insieme e conservano integra la propria sovranità nazionale quindi il potere di decisione ultimo il potere di veto e via di seguito ora come ha dimostrato Inaudi per primo ma dopo di lui anche altri è impossibile questa cosa perché e questo è esattamente quello che oggi divide ancora i cosiddetti euroscettici no? Cameron ma prima di lui la Thatcher no? e prima ancora altri come anche De Gaulle i quali credono a un disegno unitario europeo ma all'interno di un di una dominanza in ultima istanza degli stati che non credono nell'accessione di poteri in modo da creare un sistema federale non a caso dell'euro che è l'accessione del potere monetario uno stato come la Gran Bretagna no? non fa parte e non farà mai parte che che ne pensino ibleare e cose di questo genere perché? perché bisogna fare un salto di qualità bisogna passare da una concezione di tipo confederale dell'Europa a una concezione di tipo federale mi chiederete ma non nascono anche negli anni 40 quelle idealità quelle progettualità non solo federali adesso abbiamo parlato del manifesto di Ventotene che è il massimo esempio di progettualità federale federalista dell'Europa durante la resistenza ce n'erano altre però nascono anche idee che sono o confederali quindi che non si situano sul terreno della costruzione di uno stato federale o addirittura di tipo funzionalistico nel 1944 un economista rumeno che si chiamava Davide Mitrani fa la teorizzazione del cosiddetto funzionalismo che è alla base dell'idea di Monet delle comunità del funzionalismo comunitario qual è quest'idea che comunque fa parte del patrimonio antifascista e l'idea che la pace nel mondo Mitrani parlava di pace nel mondo ma la cosa è stata applicata sul piano della pace europea a quell'epoca parlare di pace europea e di pace nel mondo era quasi la stessa cosa tra l'altro l'idea che costruendo delle strutture di tipo economico e socio-economico che prendevano alcuni elementi dell'economia alcune fasce alcuni spicchi immaginate l'economia come un'arancia ecco alcuni spicchi no e si faceva in modo che stati diversi gestissero questi spicchi quindi questi ambiti economici pensiamo al carbone e all'acciaio ecco la comunità del carbone e all'acciaio è uno spicchio forse lo spicchio più importante dell'economia e ampliando gradualmente gradualisticamente a tutta l'economia e quindi arrivando anche a elementi economici che non sono solo elementi economici ma sono elementi economico-politici importanti la moneta non è un puro elemento economico parlare di moneta significa parlare di scelte politiche anche ecco che si sarebbe imparato Bonnet diceva si imparerà in 50 anni si arriverà gradualmente ma in modo deterministico alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa ora non l'antifascismo invece ci sono idealità di questo genere ma c'è un'altra idea un'idea che direi aveva vaccinato gli antifascisti sia del partito d'azione ma anche quelli alcuni socialisti i liberali ma lo stesso Benedetto Croce aveva sul piano diciamo dell'Europa idealità di questo genere Benedetto Croce è stato anche ministro poi del governo italiano tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 ora c'era l'idea che prima viene la politica giustamente Umberto Morelli ha terminato la sua relazione con una citazione di Machiavelli perché il problema vero che viene compreso dell'antifascismo italiano in modo particolare da Spinelli da Rossi ma anche da altri insieme a Spinelli e Rossi vi faccio un nome che forse è più noto sotto un certo aspetto Silone Ignazio Silone che era un socialista uno che era uscito dal partito comunista poi dal partito socialista che poi è stato chiacchierato per via di suo fratello che aveva legami con la polizia fascista però insomma Ignazio Silone lui personalmente era un nobilissimo antifascista ed era anche un europeista scrive tutta una serie di articoli di saggi sugli Stati Uniti d'Europa in tutte in tutte queste idealità ebbe un altro un altro grande documento resistenziale antifascista e siamo a Torino la cosiddetta carta di Chivasso la carta di Chivasso è un documento del 1943 in cui sette sottoscrittori alcuni appartenenti al partito d'azione altri valdesi altri austani elaborano questo documento in cui la parte fondamentale è il recupero dell'impostazione di Cattaneo di Carlo Cattaneo del federalismo risorgimentale che era un federalismo a doppia a doppia mandata a doppia dimensione infranazionale e sovranazionale un federalismo per cui all'interno dello Stato nazionale la costruzione dello Stato avveniva dal basso avveniva tramite come dirà poi Olivetti un altro federalista Adriano Olivetti di cui abbiamo visto la fiction in questi giorni anche Olivetti pensava così cioè una costruzione federale della società e dello Stato in Italia a cui doveva corrispondere a livello sovranazionale doveva corrispondere una Europa Unita ma un'Europa Unita che faceva i conti con in più lunga prospettiva con un mondo unito federalisticamente e di qui il discorso dell'ONU che si faceva già a partire dal 1945 si farà a partire dal 1945 e dal 1946 ma la struttura la struttura argomentativa problematica della Carta di Chivasso ha questo questo slancio questo sviluppo no? ecco ma in tutti questi documenti c'è un elemento comune ed è un elemento che oggi è straordinariamente attuale e io voglio terminare perché credo di aver già parlato abbastanza voglio terminare con questo punto con questo riferimento la necessità di un'unità politica e non solo economica perché i guai nei quali ci troviamo oggi in Europa dipendono voi direte ma dipendono dall'euro dalla crisi dell'euro quindi da una crisi economico-monetaria dipendono dal dal fatto che alcuni stati sono come dire molto più indebitati altri lo sono meno che la Germania sfrutta questo fatto per arritirsi anche mentre altri come la Grecia ma anche noi non è che navighiamo in acque tanto migliori insomma ecco quindi siamo sempre sul terreno dell'economia no non è vero perché ormai la crisi dell'euro è una crisi politica è una crisi istituzionale la crisi dell'euro deriva dal fatto che l'Europa è l'unico paese paese intendo l'Europa Unita l'Unione Europea è l'unica struttura politica perché è politica che ha una moneta unica senza avere un governo politico della moneta un governo che possa intervenire un ministro del tesoro perché l'Unione Europea in questo momento si trova in mezzo al guado di una incapacità di superare il livello del gradualismo funzionalistico comunitario in cui si trova e di procedere speditamente sul piano dell'unità politica questo è il grande problema dell'Unione Europea e Cameron nel gennaio del 2013 quindi pochi mesi fa ha fatto un grande discorso ai comuni un grandissimo discorso verso la fine di gennaio mi pare il 23 gennaio del 2013 in cui riprendendo l'ispirazione feceriana secondo me del conservatorismo inglese più puro ha detto che lui intendo dire il Regno Unito non entrerà mai in un cammino che significhi che la zona euro costruisce qualcosa di federale cioè i paesi della zona euro si inoltreranno se i paesi della zona euro si inoltreranno nel campo di una costruzione politica istituzionale quindi realizzando quello che oggi è necessario fare quello che oggi è veramente necessario fare lui starà sul piano del mercato lui starà sul piano non dell'euro lui starà su un piano più arretrato addirittura se poi fosse obbligatorio dire di sì a qualcosa che va nell'altra direzione la Gran Bretagna se ne andrà per i fatti suoi ha detto queste cose Cameron ora io spero che Miliband e i suoi colleghi di governo liberali non siano tanto d'accordo con lui però siamo in questa condizione in una condizione in cui su 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea 17 fanno parte dell'euro e avrebbero la possibilità di fare quel passo in avanti non voglio prendere lo spazio che sarà occupato nelle prossime relazioni naturalmente ma voglio dire che nei progetti dell'antifascismo era molto chiaro questo punto che il problema non è solo economico le quattro grandi idee e forza cioè la difesa della pace la garanzia alla Germania di un posto di riguardo nel contesto europeo ma di un posto di riguardo che non vuol dire supremazia l'integrazione economica creando uno spazio economico unico un mercato unico la moneta unica e il parlare con una sola voce queste sono le quattro grandi idee forza dell'unità europea che erano ben presenti tutte quante nel progetto nei progetti che sono stati avanzati dalle forze antifasciste nel corso della resistenza tutti queste grandi idee e forza stanno su un unico punto che è quello che è oggi all'ordine del giorno procedere attraverso una decisione politica che significa il rifiuto di ogni tipo di determinismo non arriveremo in Europa perché ci spingono forze economiche certo ci andremo perché siamo convinti che staremo meglio in un'Europa unita ma andremo in Europa solo se lo vorremo noi con le nostre volontà non ci autogestiamo grazie al professor corrado malandrino adesso abbiamo un po' di tempo per il dibattito quindi se avete delle domande il professor malandrino che il professor morelli sono a disposizione in attesa vi anticipo alle 12.30 ci sarà un piccolo rinfresco al piano terra e i lavori poi proseguiranno nel pomeriggio alle 14.30 ci raccomandiamo la puntualità in modo tale da veramente finire alle 16.30 oggi pomeriggio avremo il professor Pistone il professor Bordino che sono qui li ringrazio e anche si unirà con noi il professor Alberto Maiocchi dell'Università di Torino ricordo che chi non avesse ricevuto la dispensa può richiederla in segreteria perché ne abbiamo ancora abbiamo ancora 5-6 copie comunque la dispensa sarà ristampata e quindi sarà anche quando verremo a fare le conferenze nelle vostre scuole ne porteremo da distribuire allora che è sia con le domande intervenire dal posto premendo se può presentarsi buongiorno sono il professor Piano dell'istituto Vittorini di Coriasco ovviamente voglio innanzitutto ringraziare i docenti e il professor Monandri Norelli per le bellissime relazioni anzi devo dire che personalmente ho bisogno di voi e avrei bisogno di incontrarvi più spesso perché purtroppo il nostro materiale è scarso e non abbiamo molte possibilità i libri di testo sono molto scadenti e anacronistici direi deseducativi arriverai appunto di dire se mi consente professore ad ogni modo volevo intervenire su una cosa cioè nelle vostre relazioni di entrambi i due punti di vista è inolvato il terzo incomodo cioè l'USA gli Stati Uniti d'America gli Stati Uniti d'America hanno determinato gli esiti della prima guerra mondiale e come tutti sappiamo anche quelli della seconda guerra mondiale non solo sono un modello un modello di federazione un modello di Stato federale che sovente non viene considerato non viene analizzato non viene adeguatamente prospettato ecco domanda gli Stati Uniti d'America possono essere per noi un modello di federazione di Stati d'Europa una seconda domanda il principio di sussidiarietà che è l'unico principio diciamo veramente che potrebbe portarci ad una federazione europea fino a che punto dal vostro punto di vista può essere efficace grazie grazie professor Piano se ci sono altre domande possiamo iniziare a raccoglierle prego professoressa sono la professoressa Dalbiano dell'istituto Mazzarello io vorrei spostare l'attenzione su temi che riguardano un po' di più un secondo tema sulle elezioni europee da svariato tempo si sentono critiche l'Unione europea come istituzione troppo sbilanciata sull'austerità sull'austerità economica chiesta dalla Germania non è l'ultimo ieri Schroeder sulle pagine della stampa volevo sapere qual è la vostra opinione in merito un'Europa che possa derogare in qualche modo al patto di stabilità per riprendersi dalla crisi o un'Europa che in qualche modo frenando degli eccessi di spesa da parte degli stati nazionali possa in qualche modo servire anche a controllare una politica che alcune volte non guarda l'Europa ma guarda gli interessi troppo nazionali grazie grazie a lei altre domande? ebbene direi che allora possiamo chi vuole iniziare a rispondere io potrei dire qualcosa come anche Morelli su tutte e tre le domande perché poi esprimiamo un pochino anche delle idee siamo simili al 90% credo però c'è un 10% che ci divide allora dalla prima il problema degli Stati Uniti d'America ne abbiamo accennato entrambi sia in termini come dire di relazioni internazionali sia in termini di modello federale quindi io non ho parlato di una forza molto importante che è stata la base del processo di integrazione europea cioè dell'atlantismo ma è stato veramente molto importante perché cronologicamente si pone dopo il periodo sul quale io dovevo concentrare la mia attenzione credo ne parleranno altri oggi pomeriggio la mia opinione è che gli Stati Uniti d'America sono stati un modello importantissimo per la costruzione dell'unità dell'unificazione europea per quanto a mio modo di vedere noi non possiamo in Europa ripercorrere pedissequamente un modello federale americano perché l'Europa è molto diversa il contesto degli stati nazionali europei molto diverso dal contesto nel quale si è formata la federazione americana però diverso non vuol dire del tutto dissimile quello che voglio dire è che storicamente l'atlantismo cioè il patto il rapporto privilegiato dell'Europa con gli Stati Uniti d'America è stato assolutamente importante perché addirittura con il piano Marshall ma questo magari ne vorrà parlare di più Umberto Morelli quindi glielo lascio però appunto nella seconda metà degli anni 40 le scelte concrete delle amministrazioni americane di Truman hanno portato si è detto a un certo punto che gli Stati Uniti erano federatore degli Stati europei cioè hanno dato un grosso contributo ma bisogna pensare che una delle grandi forze che comunque negli stessi anni negli anni della guerra fredda hanno fatto da motivo portante trainante del processo di integrazione europea è stata la paura del blocco sovietico noi avevamo un nemico noi intendo dire i paesi diciamo dell'occidente avevano un grande nemico che era il comunismo sovietico che era però molto più completamente il blocco allora il mondo era diviso in zone di influenza ora paradossalmente finché c'è stato questo nelle crisi si è andati avanti ora in tutto questo discorso gli Stati Uniti hanno veramente dato un grosso contributo che poi hanno lasciato perdere nel momento in cui ci sono trovati loro in difficoltà ma da un punto di vista del modello federale che forse era una delle chiavi della domanda che è stata posta a mio modo di vedere questa era un'idea che avevano Einaudi per esempio e gli stessi autori del manifesto di Ventotene che pensavano al federalismo sostanzialmente nel modello cosiddetto emiltoniano cioè il modello degli Stati Uniti d'America ora questo è il punto che ci divide forse o comunque che non non ci vede perfettamente uniti per cui lo dico apposta a mio modo di vedere invece quel modello che è senz'altro suggestivo cioè è stato suggeritore di idee che hanno portato comunque avanti ma non è non era e non è destinato ad essere applicabile o applicato perché gli Stati che formano la federazione americana non hanno avuto una cultura una civilizzazione una idea di quello che era la sovranità che invece stava alla base delle grandi statualità storiche europee cioè se noi configuriamo la Francia che è il paese sovranista per eccellenza e lo paragoniamo col Maryland no con non so qualsiasi stato cioè ci rendiamo immediatamente cioè attenzione guardate che però gli stati americani prima hanno conosciuto una fase quella diciamo della confederazione no dal 1778 al 1787 o 1888 no? prima della costituzione federale no? in quei dieci anni erano una confederazione e gli stati di allora non erano i 50 stati di oggi erano sostanzialmente gli stati atlantici no? pensavano di svilupparsi verso una concezione della sovranità analoga a quella e dobbiamo a gente come Washington come Hamilton come Madison se questo non è avvenuto se a Philadelphia hanno prevalso i federalisti però erano erano già la Virginia era già orientata bene nel senso che era lo stato più forte e voleva imporre il suo modo di vedere agli altri quindi una qualche forma di cultura della sovranità stava prendendo piede però il meccanismo duale che poi è stato corretto no? cioè di questa dualità no? tra gli stati da una parte l'unione la federazione dall'altra no? che è un po' rigido un po' meccanico e che non tiene conto oggi parliamoci chiaro la federazione è molto più forte degli stati c'è stata una concentrazione enorme del potere ora io per quanto faccia per quanto sia federalista personalmente non riesco a immaginare un'Europa dove assistiamo al fenomeno opposto della revivescenza delle statualità nazionali no? io non riesco proprio a immaginare un modello rigido con tutte le variazioni che ha avuto le modifiche in senso cooperativo però è rigido come sistema no? in Europa io immagino molto di più un sistema più mediato più flessibile eh tra gli stati che mantengono alcuni dei loro poteri forti però una unione federale europea che acquista poteri molto forti nel campo della politica estera di sicurezza nella politica delle migrazioni nella politica ambientale nella politica energetica però ecco questo meccanismo deve essere mediato dai cittadini europei ecco perché è così importante quella cosa che noi facciamo qui cioè quello del concorso diventiamo cittadini europei cioè i cittadini europei devono porsi come terzo i cittadini americani sono cittadini americani non degli stati anche se veramente poi sono cittadini ma sono americani e quindi invece in Europa noi abbiamo questo problema della cittadinanza e qui subentra la sussidiarietà che è il secondo tema che è stato proposto la sussidiarietà è assolutamente necessaria nel sistema europeo la sussidiarietà è alla base di quella concezione del federalismo per cui partendo dal basso finché se una struttura uno stato una regione un comune riesce ad assolvere ad alcuni compiti lo deve fare però se non lo fa subentra il potere dall'alto ecco questo è quello che ci manca da noi perché noi non abbiamo ancora costruito il sistema istituzionale federale alcuni pensano che la sussidiarietà sia contro il sistema federale ma è tutto il contrario la sussidiarietà è alla base di un sistema federale europeo e non a caso noi vediamo che non c'è nel modello federale americano terza cosa austerità io ho studiato in Germania io sono un cosiddetto humboldtianer cioè sono andato a fare ricerca in Germania per degli anni pagato dalla fondazione Alexander von Humboldt quindi ho conosciuto la Germania io amo la Germania mi spiace dirlo ma io amo la Germania però non è un peccato no appunto ma la Germania che amo io non è questa Germania perché questa Germania purtroppo dopo che ha superato lo shock del secondo dopoguerra cioè lo shock per cui da paese vinto no? che non poteva alzare tanto la voce dopo la caduta del muro di Berlino la riunificazione con tutto quello che ne è conseguito ma soprattutto dopo che nella cultura tedesca hanno preso piede delle componenti di tipo liberistico che non ci sono mai state nella cultura economico sociale tedesca ma che sono di importazione dal liberismo anglosassone e questa cultura si è insediata stabilmente nella Bundesbank ecco che purtroppo questa ha coinciso con le riforme di Schroeder che è stato citato no? Schroeder ha fatto delle riforme ma le sue riforme non andavano nel senso di una prevalenza degli elementi liberistici degli elementi che vedono nella garanzia di una stabilità monetaria a qualunque costo e quindi dell'austerità che viene imposta a tutti i paesi europei della zona euro e di cui guadagna la Germania ora questo non è la Germania questa è la Bundesbank questo è il brain trust degli economisti tedeschi che stanno intorno ai liberali che hanno perso le elezioni che non sono riusciti a entrare nel Bundestag nel Parlamento nelle ultime elezioni per cui la Merkel ha dovuto ricorrere adesso alla grosse coalizione con i socialdemocratici ecco questa idea questa ideologia dell'austerità in parte è europea ma è dovuta proprio alla paura terrificante che hanno i tedeschi in modo particolare i tedeschi intorno alla Bundesbank intorno a questi gruppi di tipo liberistico o transista no? e di cui anche la Merkel non è che faccia parte però è un po' ostaggio ecco di questi gruppi per mantenere perché se no i tedeschi ha paura che la abbandonino no? ora cioè di questa ideologia dell'austerità che vede come questione fondamentale la stabilità monetaria contro l'inflazione il buon andamento dei conti pubblici non solo in Germania ma anche negli altri paesi perché ha paura che la Germania come paese più importante da un punto di vista economico dovrà poi pagare i debiti degli altri la realtà è un'altra che con la questione dello spread della Germania si è impadronita di somme enormi ora io spero che con la grossa coalizione con l'ingresso della socialdemocrazia tedesca che ha una linea in gran parte coincidente ma in parte no è più aperta a politiche sociali abbiamo letto anche qui si parlava di interviste a Schultz che è il presidente del Parlamento europeo che è un tedesco ed è un socialdemocratico che va in un'altra direzione è d'accordo con Letta è d'accordo con una visione più ampia però questa visione più ampia parliamoci chiaro non è che sia rifiutata dalla Germania non è che la Germania rifiuti delle politiche sociali una maggiore libertà di sforare il famoso 3% di fare debiti eccetera no non è che la rifiuti in toto la accetterebbe nell'ambito di una costruzione di istituzioni federali in cui c'è un governo dell'economia che è controllabile e che controlla questo è il punto fondamentale ma quando si arriva a parlare di questo punto la Francia fa un po' orecchi da mercante Olanda è solo negli ultimi mesi che sta prendendo qualche posizione di disponibilità in questa direzione ecco quindi l'austerità io credo che dovrà cambiare per forza perché stanno tirando il collo ad alcuni paesi in Grecia ci saranno movimenti insurrezionalistici a breve scadenza ma anche in Italia io non credo che siamo tanto distanti perché perché l'austerità ha senso unico lo diceva Federico Rampini l'altra sera a una trasmissione che io ho seguito con grande piacere dice ma qui si vuole uccidere le economie dove ci porta questa strada allora non è che bisogna essere anti-europei no perché io credo che bisogna essere per l'unità europea ma bisogna andare coraggiosamente avanti nella direzione di creare un nucleo federale tra i paesi dell'euro che è l'unico modo anche di invertire la politica dell'austerità non esistono altri modi se no la Germania difende i suoi interessi esattamente come gli altri difendono i loro interessi ma perché Cameron perché la Gran Bretagna non entra nell'euro ma per difendere gli interessi della City ma perché cosa comincio dai libri di testo i libri di testo sulla storia dell'integrazione europea alle volte a me piace essere molto franco e radicale per esprimere il concetto forse esagero però perlomeno sono chiaro molti testi di storia dell'integrazione europea sono pieni di errori e mal scritti nel senso che non danno l'idea del significato dell'integrazione europea posso fare degli esempi non lo faccio per carità di corporazione cioè dei storici ci sono libri di storia dell'integrazione europea pubblicati scritti da storici famosi da case editrici di importanza nazionale pieni di errori questo è molto grave perché tramite la storia si forma la coscienza di un cittadino tramite la storia non solo tramite la storia tramite anche la letteratura vi faccio solo un esempio in Ruanda dopo il genocidio hanno sospeso l'insegnamento della storia in attesa che ci si desse una calmata anni fa qualche anno fa mi è capitato di presentare qui a Torino un libro molto denso che studiava sui manuali scolastici che parlavano di Europa questo libro c'era dei errori quindi la situazione è piuttosto grave e così spiegare l'integrazione europea per esempio faccio ancora un esempio parlare della ceca della comunità europea del carbone e dell'acciaio e dire che la ceca mette in comune il carbone e l'acciaio è vero ma non dà il senso dell'integrazione europea perché la ceca non è allora anche qui esagero la cosa di mettere in comune il carbone e l'acciaio era la cosa meno importante il problema della ceca era la pace tra Francia e Germania il carbone e l'acciaio era il mezzo per pacificare Francia e Germania se non si spiegano queste cose non si fa educazione si farà informazione sperando che si faccia corretta senza gli errori ma non si fa formazione veniamo al ruolo degli Stati Uniti allora gli Stati Uniti sono un modello faccio due esempi e poi allora quando gli Stati Uniti nella loro storia ebbero due costituzioni la prima di natura confederale quella del 1776 che è borata fino all'inizio del decennio successivo poi nel 1787 gli Stati Uniti scrivono una seconda costituzione l'attuale sette articoli se ricordo bene due o sì comunque sette articoli più quasi una trentina di amendamenti ebbene questa costituzione fu scritta dalla convenzione di Filadelfia cioè i rappresentanti degli Stati delle 13 ex colonie erano convenuti a Filadelfia per risolvere problemi di natura commerciale invece che risolvere problemi di natura commerciale si resero conto che la costituzione confederale gli Articles of Confederation non funzionava ed ebbero il coraggio di darsi un mandato costituente cioè la convenzione di Filadelfia si trasformò in una assemblea costituente cioè i rappresentanti dei cittadini scrissero la costituzione che legava insieme gli stati con le ex colonie che avevano conquistato l'indipendenza e la cosa fondamentale che vorrei sottolineare che dovrebbe essere per l'Europa la nuova costituzione doveva entrare in vigore dopo la ratifica non un'anime dei 13 stati ma dopo la ratifica a maggioranza dei due terzi cioè la costituzione sarebbe la nuova costituzione americana federale sarebbe entrata in vigore alla ratifica del nono stato su 13 infatti non entrarono tutti insieme non mi sono il Roda il Lann il Connecticut non mi ricordo contro un anno o due dopo questo è fondamentale cioè non si applicò il diritto di veto le modifiche alle trattate istitutive al diritto primario dell'Unione Europea richiede l'unanimità e con l'unanimità non si va da nessuna parte l'unanimità è un principio antidemocratico uno blocca la volontà di tutti quindi un esempio della storia americana è quello le leggi delle costituzioni prima l'assemblea costituente e non la conferenza intergovernativa scrive i trattati cioè non un organismo intergovernativo ma i rappresentanti dei cittadini come due volte è capitato nella storia dell'integrazione europea sono fallite tutte e due adesso non entro nei dettagli però un'assemblea costituente composta da rappresentanti dei cittadini è più avanzata in senso federale rispetto a una conferenza di ambasciatori di diplomatici che sono addestrati per salvaguardare la sovranità nazionale quello è il loro compito non è quello di creare un nuovo stato di fare una federazione gli ambasciatori devono difendere la sovranità nazionale secondo esempio lo diceva lo ricordava prima Corrado oggi la federazione americana è molto più accentrata rispetto a un tempo questo perché gli Stati Uniti aumentando gli impegni di politica internazionale una volta voglio usare il concetto di stato insulare e stato continentale uno stato insulare non è soltanto un'isola uno stato insulare è uno stato un concetto geopolitico è uno stato che non ha pressioni militari ai propri confini non avendo pressioni militari ai propri confini può decentrale affermare la libertà e così via chissà perché il parlamentarismo è nato in Inghilterra e non in Prussia perché gli inglesi sono più furbi i prussiani sono stupidi l'Inghilterra era un'isola non aveva una minaccia militare ai propri confini poteva decentrare e discutere in Parlamento sintetizza e banalizzo solo per questioni di tempo ovviamente bene gli Stati Uniti hanno avuto una politica di tipo non avevano pressioni anche se non erano in isola non avevano pressioni militari proprio il Messico e il Canada non minacciavano gli Stati Uniti e quindi hanno avuto un grosso decentramento la federazione e così via quando di fronte agli Stati Uniti sorge la minaccia globale dell'Unione Sovietica la politica estera americana ovviamente cambia non è più l'isolazionismo non è più la dottrina Monroe la dottrina Truman la dottrina dell'intervento per appunto difendersi dalla minaccia e quindi di fronte a una minaccia è il modello di Stato che interessa l'accentramento la prossia lo Stato caserma negli Stati Uniti c'è stato un forte processo del centramento che curiosamente è stato messo in evidenza da un personaggio insospettabile come il Presidente Eisenhower generale cioè militare e repubblicano nel messaggio di addio da Eisenhower quando lascia la Presidenza Kennedy da Eisenhower mise in guardia la società americana contro i pericoli del complesso militare industriale adesso io non mi ricordo a memoria la citazione l'ho citata in un mio libro sulla storia dell'integrazione europea comunque Enaudi dice proprio l'accentramento nel complesso militare industriale vuol dire l'alleanza tra il Pentagono il Ministero della Difesa e l'industria bellica il complesso militare industriale è un pericolo per la nostra dice per la non ricordo per la nostra istituzione per le tradizioni istituzionali federali degli Stati Uniti questo è un esempio che non deve seguire probabilmente l'Europa a differenza degli Stati Uniti il federalismo come dire potrebbe essere più salvaguardato perché c'è una forte tradizione di stati nazionali in Europa a differenza dei 50 stati della federazione americana l'accentramento è molto per la tradizione per la storia europea per i secoli di storia di guerre di stato nazionale e così via gli Stati Uniti hanno avuto un grosso ruolo nell'integrazione europea perché l'integrazione europea parte sotto la spenta americana Truman e Eisenhower prendono a calci gli europei perché si unifichino poi la politica estera americana cambia soprattutto dalla presidenza di Nixon in poi per arrivare fino a oggi gli Stati Uniti hanno avuto un grosso ruolo piano Marshall spesso si parla del piano Marshall e tutti pensano agli aiuti economici ma anche questo un piano Marshall non è un piano agli aiuti economici gli aiuti economici dall'America all'Europa arrivavano dal 44 da quando gli americani liberali arrivavano agli aiuti la cosa fondamentale del piano Marshall è il principio di condizionalità cioè gli Stati Uniti aiutano l'Europa i paesi europei a condizione che si unifichino l'espressione di Marshall nel discorso del 5 giugno 47 all'Università Harvard quando gli danno la laurea honoris causa dice the program should be a joint one il programma di ricostruzione economica deve essere unico cioè gli Stati Uniti dicono agli europei noi vi diamo i soldi ma voi non usate questi soldi per ricostruire gli stati nazionali e per tornare a farvi la guerra perché c'è il pericolo esterno dell'Unione sovietica utilizzate gli aiuti del piano Marshall per mettervi insieme per ripercorrere la storia degli Stati Uniti nelle dispense c'è solo tutta una serie di link che avevo fatto appunto in margine a quel libro di storia dell'integrazione europea c'è il discorso di Marshall potete andarvelo a vedere non mi ricordo forse l'essi in inglese comunque su internet si trova anche in italiano in cui c'è la frase specifica the program should be a joint union poi gli europei non si adeguarono esattamente insomma gli americani danno la spinta l'integrazione europea nasce nel poi ripeto da Nixon in poi la cosa cambia anzi a un certo punto arrivano anche a boicottare l'integrazione insomma la finanza anglosassone non ha preso molto amichevolmente la moneta unica l'euro eccetera comunque lasciamo stare cosa volevo dire adesso però ho perso il filo no no arriva la sua seguità vabbè l'alzheimer avanza anche gli Stati Uniti appunto spingono gli europei a integrarsi ma attenzione si dice l'integrazione europea è figlia della guerra fredda è vero l'integrazione europea nasce per cause eudogene la minaccia sovietica Stalin la pressione americana ma ricordiamoci che a un certo punto la minaccia sovietica e la pressione americana finiscono l'integrazione europea invece va avanti ci sono delle cause scusate cause esoggi ci sono delle cause endogene interne all'Europa più importanti e che rimangono ed è la crisi degli stati nazionali all'origine dell'integrazione europea c'è certamente la minaccia sovietica di Stalin e la pressione americana cause appunto esogene però poi c'è un punto sono finite cessata la causa l'effetto però è andato avanti è andato avanti all'origine la causa fondamentale dell'integrazione europea è che da soli non si va da nessuna parte l'integrazione è una necessità non è una libera scelta da soli gli stati europei non vanno da nessuna parte unirsi o perire principio di sussidiarietà principio di sussidiarietà deriva dalla dottrina sociale della chiesa l'enciclica rerum novarum di leone tredicesimo lo stato è sussidiarietà l'elemento fondamentale che deve rispondere ai bisogni della famiglia per la dottrina sociale della chiesa e dei bisogni della persona e la famiglia l'intervento pubblico è sussidiario rispetto alla famiglia trasportato nel linguaggio politico principio di sussidiarietà significa che è un principio democratico molto importante che i bisogni vanno i bisogni dei cittadini vanno risolti vanno soddisfatti al livello più vicino possibile ai cittadini dove è più facile il controllo dei cittadini sulla decisione politica cioè a livello comunale i problemi vanno risolti le risposte politiche ai bisogni dei cittadini vanno presi al livello più basso passano al livello superiore quando l'entità del problema e quindi la necessità di risorse economiche necessarie a risolvere il problema o l'estensione geografica del problema che coinvolge i più comuni può essere più risolta dal primo livello territoriale passa al livello successivo la regione lo Stato l'Europa l'umanità cioè è una come dire un moltistrato le risposte vanno prese al livello più adeguato per soddisfare i bisogni dei cittadini le decisioni politiche tenendo presente che più sono vicini i cittadini più è possibile il controllo quindi più è rispettata la democrazia questo è il principio di sussidiarietà che viene recepito nell'integrazione europea per la prima volta in un progetto che non è passato uno di quelle due volte in cui un'assemblea costituente in cui i rappresentanti dei cittadini hanno scritto un processo una bozza di costituzione europea cioè nel cosiddetto progetto Spinelli progetto di trattato di Unione Europea approvato esattamente 30 anni fa il 14 febbraio 1984 fra qualche mese si celebrerà il triennale del progetto Spinelli e poi viene recepito il principio di sussidiarietà poi il progetto Spinelli come è noto non passò comunque il principio di sussidiarietà attenzione il principio di sussidiarietà è un principio molto democratico può essere fatto valere anche dagli anti-europeisti per non passare i poteri all'Europa o a livello superiore bisogna fare molta attenzione il rigore allora uno degli elementi fondamentali della comunità solidarietà coesa dello Stato è il principio di solidarietà che fa parte della miglior tradizione del pensiero politico europeo sia nella versione laica il socialismo sia nella versione religiosa la dottrina sociale della Chiesa principio di solidarietà che significa che le aree ricche debbano intervenire a favore delle aree povere più arretrate in via di sviluppo chiamatele come volete il principio di solidarietà è un cardine fondamentale della convivenza civile non solo per motivi etici o religiose ma per motivi economici e politici in una comunità un'area di povertà significa instabilità e quindi significa problemi anche banalizzo per farla breve anche per i ricchi se c'è un'area povera quest'area è instabile quest'area crea problemi non sono contenti fanno insomma ci sono ci sono sommovimenti perché gli Stati Uniti hanno fatto il piano Marshall per l'Europa che significa perché tra il 1948 e il 1951 hanno speso 13 miliardi di dollari hanno trasferito 13 miliardi di dollari ai paesi europei perché gli Stati Uniti erano un istituto di beneficenza e lo facevano pena agli europei che poveretti morivano di fame o perché era nell'interesse dei ricchi Stati Uniti aiutare i poveri europei perché è nel periodo di riconversione dell'economia da un'economia di guerra a un'economia di pace in cui non bisognava più produrre carri armati bombe, cannoni portaeri eccetera ma bisognava produrre frigoriferi lavatrici non so se c'erano già televisioni e radioline e poi a chi si vendevano queste cose qua se le industrie non producevano come si smobilitavano i soldati che tornavano dal fronte che posto di lavoro trovavano allora ecco che bisogna aiutare l'Europa che mettendo mano al portafoglio aiutare l'Europa che si riprenda perché l'Europa quando crollano i regimi comunisti e quindi il piano Marshall con la clausola di collezionalità perché quando crollano i regimi comunisti l'Europa crea la banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per aiutare i regimi comunisti per aiutare i cittadini dell'est europeo era interesse dell'Europa che l'est europeo diventasse un'enorme zona di instabilità e di migrazione dall'est europeo verso l'ovest o era interesse dell'Europa ricca mettere in mano il portafoglio e investire nell'Europa nei paesi dell'Europa orientale perché la situazione si stabilizzasse perché si consolidassero governi amici cioè liberal democratici e per far questo si mette in mano il portafoglio ecco allora il problema del principio della solidarietà nell'interesse di tutti il principio della solidarietà che è recepito nei trattati istitutivi nel trattato di Roma che istatuisce la comunità economica europea stava scritto che uno degli scopi era uno sviluppo armonioso sviluppo armonioso non significa che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri sviluppo armonioso significa che si sviluppa tutti insieme ed ecco le politiche sociali non per far carità ma nell'interesse di tutti per svilupparci tutti insieme perché aree di sottosviluppo creano problemi e questo significa che il principio del giusto ritorno è una sciocchezza prima ancora che il giusto ritorno significa nel caso dell'Europa che uno Stato versa tot al bilancio comunitario e deve ricevere tot al bilancio comunitario principio opposto più volte dagli inglesi Thatcher I want my money back e tutte queste cose qua principio del giusto ritorno è una stupidaggine perché è un concetto ragioneristico io do dieci devo ritornarmi dieci la Lombardia versa dieci di tasse a Roma e deve tornare dieci da Roma sono stupidaggini perché non le tiene conto del vantaggio che non si può misurare dell'appartenere a una comunità più grande di contare di più grazie alla comunità più grande nel mondo di avere tutta quella serie di vantaggi in termini di sicurezza e di stabilità che non sono contabilizzabili in maniera ragionalistica detto questo il politico del rigore della Germania sapete quanto ha guadagnato la Germania dalla Grecia qualche mese fa sul Die Welt è uscito un articolo in cui faceva i conti di milioni di euro che la Germania ha ricavato vendendo armi Mercedes BMW e quant'altro alla Grecia Die Welt non un giornale greco è Die Welt allora il rigore per carità ah diciamo situazioni di questo genere oltretutto contribuono il rigore la Merkel eccetera quali sono i risultati che la Merkel viene di pentaco i baffetti a Hitler e così via cose di questo genere creano una forte divario odio quasi direi tra le opinioni pubbliche europee perché i tedeschi diventano sono tutti Hitler i greci sono spendaccioni gli italiani sono cicale i finlandesi sono virtuosi sono biondi con gli occhi azzurri e così via sono cose pericolosissime queste per la deriva populistica e razzistica a cui danno possono dare ma a Maastricht quando si è fatta la moneta unica quando si è deciso di fare la moneta unica si sono trasferiti all'Europa i poteri necessari i poteri economici e politici necessari per gestire la moneta unica e necessari per fare le politiche sociali a favore dei paesi ogni stato compresi quelli deboli compresi la Grecia hanno voluto difendere la sovranità nazionale il risultato che adesso le politiche di rigore sono imposte non da un'Europa democratica da un governo europeo le politiche di rigore le politiche economiche non sono decise da un governo democratico europeo responsabile di fronte un parlamento sono decise dai direttori dalla Germania dalla banca centrale dal fondo monetario e non c'è un governo europeo perché a Maastricht quando si è fatto la moneta unica e si sapeva questo chi ha sfirmato il trattato di Maastricht sapeva perfettamente che stava facendo una moneta senza il governo e non si fa un esercito senza un governo dove al mondo c'è un esercito e una moneta senza uno stato l'errore fondamentale fu fatto a Maastricht nella difesa della sovranità nazionale le conseguenze adesso riscontano i paesi appunto più debole che hanno totelato nell'illusione di totelare la sovranità nazionale concludendo faccio ancora un esempio la grande crisi del 29 il bilancio americano all'inizio della crisi del 29 era il 3% del PIL anche poi cito a memoria non ho i dati e non pensavo di parlare di queste cose dieci anni dopo con Roosevelt il bilancio americano era salito al 10% se mi ricordo bene del PIL per far fronte alla crisi del 29 in Europa il bilancio è stato ridotto gli stati gli stati sovrani che decidono il bilancio nell'ultima riunione un po' di mesi fa hanno ridotto il bilancio sapete quant'è il bilancio dell'Unione Europea? più o meno l'1% del PIL 120 miliardi di euro in valori assoluti sapete qual'è il bilancio di una federazione come gli Stati Uniti? 25% del PIL cosa si fa con l'1% del PIL? e l'Europa non ha i poteri per aumentarsi le entrate perché le entrate sono decise dagli stati sovrani all'unanimità allora poi oltretutto la Germania che adesso vuole il rigore è la Germania dell'economia sociale di mercato dell'ordoliberalismo cioè del modello renano di capitalismo non del modello anglosassone e adesso però per i motivi che spiegava prima Corrado le cose sono un po' cambiate vi lascio soltanto con una battuta a mio giudizio gli stati come diceva peraltro non mia di Tommaso Padoa Schioppa gli stati debbono fare rigore l'Europa deve fare investimenti e creare posti di lavoro per far questo occorre un'Europa cioè un governo europeo occorre un ministro dell'economia europea occorrono emissioni di bonde europee per poter fare gli investimenti per poter stimolare la crescita non si può andare avanti con deficit eccessivi dello Stato certamente gli stati debbono risanare ma l'Europa deve provvedere allo sviluppo perché in grado di farlo basta volerlo politicamente è un problema di volontà politica non di risorse economiche grazie al professor Morelli e al professor Malandrino vi ricordo che questo incontro è trasmesso in diretta streaming e potrete riascoltare gli interventi di questa mattina non poi quelli di questo pomeriggio collegandovi sul sito www.crpiemonte.tv ci trovate un udito adesso siete tutti invitati piano terra seguendo lo scalone al piccolo rinfresco grazie ci vediamo alle 14.30 grazie a tutti 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 Sottamattina noi abbiamo affrontato le premesse del processo di integrazione europea, che sono una premessa fattuale, le guerre mondiali che hanno portato, come è stato chiarito, all'autodistruzione dell'Europa, per cui l'Europa si è trovata in una situazione tale in cui scatta l'alternativa nei partiti democratici dell'Europa di uirsi e operire, in sostanza. Quindi è una premessa materiale, come sempre della storia e dalle grandi tragedie che nascono, i cambiamenti. Sarebbe meglio che non avvenisse così, di fatto è così. Però questa è la premessa materiale. La premessa ideale è il dibattito sull'unità europea che c'è sempre stato, ma nell'epoca delle guerre mondiali e con un culmine durante la resistenza antifascista, della guerra mondiale ha avuto un salto di qualità e quindi ha creato un consenso ampio nei partiti, anche nell'opinione pubblica, sull'idea di un'unità europea che ha reso poi possibile l'avvio concreto del processo di integrazione europea. Visto le premesse materiali e ideali del processo di integrazione europea, oggi invece le relazioni studiano il processo di integrazione europea effettivo, quale si è svolto. Sono due, una relazione analizzerà le linee fondamentali dello sviluppo del processo di integrazione europea, l'altra la situazione drammatica di fronte a cui si trova l'integrazione europea in questa fase, in cui l'integrazione europea è in gioco, l'alternativa che noi usiamo spesso è o federazione europea rapidamente o disgregazione. Non solo noi, io sono un federalista, ma non solo noi, lo dicono anche statisti importanti. Vorrei solo fare due parole di inquadramento, perché poi passo alla parola ai relatori. Vorrei ricordare un po' l'integrazione europea per cogliere il suo sviluppo, i suoi problemi, le sue difficoltà, anche la situazione un po' drammatica in cui si trova, ha una certa dinamica che è costante e la dinamica integrativa europea si può quindi definire. Dopo la seconda guerra mondiale c'è una spinta forte all'unificazione europea che però si manifesta nei paesi in cui la democrazia c'era o è stata restaurata, e quindi in Europa occidentale, Europa cento-orientale cadono sotto l'orbita sovietica, non c'è niente da fare. Nell'Europa occidentale, in paesi democratici, infatti c'erano paesi come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, quando non lo erano, c'erano degli europeisti ma i governi non facevano una politica di unificazione europea, qui nasce una spinta ad attuare una politica di unificazione europea che è strutturale, che è permanente. Se da allora c'è sempre una politica inadeguata, vedremo, di unificazione europea che corrisponde appunto a quell'alternativa che aveva indicato Aristide Briand, ministro degli esteri francesi, che nel 1929 fece la prima proposta di unificazione europea, purtroppo un mese e mezzo dopo c'è la crisi del 1929 e con questo apre la strada al nazismo, eccetera, e niente da fare. Lui aveva concluso, come diceva Morelli, la sua intervento con l'idea che l'Europa deve sorvenire e operire. L'Università di Operire è il fattore che spinge all'integrazione europea, perché gli stati nazionali democratici e i partiti e i governi democratici al loro interno sentono che c'è bisogno di avviarsi, cambiare strada verso l'unificazione europea e quindi hanno fatto una serie di atti che verranno ricostruiti, in parte sono le dispense che indicano una continuità, uno sviluppo del processo di integrazione europea. Ecco, ora, però, questa spinta che c'è, se non ci fosse questa spinta oggettiva all'integrazione europea, non sarebbe sviluppata e, diciamo così, contrastata da delle resistenze. Con gli stessi governi, Spinelli diceva agito all'integrazione europea, sulla guerra, che i governi democratici nazionali sono strumenti dell'integrazione europea, in buono senso tempo ostacoli. E c'era quella frase di Bacchiavelli del sesto capitolo del principe, sono strumenti perché devono fare una politica dell'integrazione europea, sono costretti, però sono ostacoli perché un'integrazione europea portata avanti fino a fondo significa federazione, significa trasferimento di poteri sostanziali sul piano sopranazionale e qualsiasi, diciamo così, entità che ha un potere e la sua classe dirigente ha un po' la tendenza a mantenere il potere. Si chiama la legge dell'autoconservazione del potere, di cui il capitolo sesto del principe, che è stato modicato, è una prima formulazione. Quindi c'è la resistenza, c'è. Ecco, quindi spinta e resistenza, questo spiega un po' l'andamento dell'integrazione europea. Si va avanti, ma un passo avanti, mezzo passo indietro o ci si arresta. Comunque, insomma, i governi hanno cercato di attuare, e cercano di attuare tuttora l'evoluzione europea in modo da conciliare l'esigenza di unirsi con la spenta profonda a conservare il loro potere. I governi in senso lato, i governi, l'uso è un termine nel senso americano, questo è il governo, non è soltanto l'esecutivo, ma anche il Parlamento, l'insieme delle istituzioni fondamentali. C'è la tendenza, ecco, allora, di qui, la conciliazione fa esigenza alla spenta l'unificazione europea, che c'è ed è costante, e la tendenza a conservare il potere porta, appunto, la scelta gradualistica, ma gradualistica che per me non è un male, con l'idea di riveliare sempre la federazione europea. All'inizio dell'integrazione europea, dichiarazione Schumann, 9 maggio del 50, si rivela gradualmente, ma per la federazione europea. Ma la federazione europea viene sempre rinviata, costantemente rinviata, perché, appunto, c'è questa resistenza. E poi, appunto, passi avanti la lentezza, un processo, la lentezza del processo di unificazione europea, poi spiega le difficoltà, anche a un certo punto il fatto che l'opinione pubblica si è un po' distaccata, insomma, un processo che si, sembra, non arriva mai a parla, oltre che non affronta certi problemi, spiega, appunto, che ci sia a un certo punto una certa reazione contraria. Ecco, e allora, e, non so, questa integrazione europea è lenta, e non arrivando, per questi motivi, alla unificazione federale europea, ha dei defici strutturali, che sono sempre due, i defici strutturali dell'integrazione europea sono un po' di efficienza, perché non si crea un'istituzione federale in cui il principio è il voto a maggioranza generalizzato, abbiamo un'istituzione in cui più confederale, che è il federale, qualche aspetto federale, ma in cui, appunto, le questioni fondamentali vengono di chiese all'unanimità. Quindi questo è un sistema inefficiente, è la confederazione, gli article of confederation, insomma, quelli sono durati pochi, sono durati, in cui non si decidono, di fronte ai problemi non importanti, abbastanza facili, si va avanti. Quando il problema da affrontare nell'integrazione europea è difficile e complesso, ecco la tendenza all'accordo al minimo comune denominatore, l'unanimità, e quindi inefficienza dell'integrazione, deficit di efficienza, e poi c'è un deficit di democrazia. Comunque si decidono, essendo integrati, interdipendenti fortemente, e adesso sempre di più, tanto più che la moneta europea, molte cose fondamentali si decidono a livello europeo. Ma a livello europeo, mancando un sistema federale, manca un quadro democratico. Gli organi che prendono le decisioni sono organi tecnocratici, come la Commissione, sì, approvata dal Parlamento europeo, ma scelta dai governi, e con poteri che non sono i poteri di un governo in senso pieno, no? Oppure il Consiglio dei ministri è il Consiglio europeo. Quindi l'europeo, capi di Stato e di governo, decide tutto all'unanimità. Il Consiglio dei ministri decide le cose più importanti all'unanimità. E comunque sono ordini non democratici. Si dice, ma sono stati eletti a livello nazionale, questi capi di governo, i ministri. Sì, sono stati eletti, ma sono stati eletti a livello nazionale. Non c'è, non sono organi a livello europeo che sono espressione forte di una votazione volontà popolare europea. Il Parlamento europeo in parte lo è, ma il Parlamento europeo non ha poteri adeguati, non ha. Perché poi le decisioni le prende il Consiglio dei ministri, il Consiglio europeo, quelle fondamentali. E quindi ecco il deficit di democrazia. Ecco, questo, insomma, quindi l'integrazione, appunto per questo, già avanti, ha ottenuto grandi risultati, ma è, questa integrazione, è ancora in mezzo al guado. Quell'immagine che si fa, io faccio, qualcuno l'avrà sentita, ma in mezzo al guado cosa vuol dire? Alla fine della guerra gli stati europei, democratici, scelgono la strada di integrazione europea. Cioè, siamo su una riva del fiume, incendiata, guerre, distruzioni, eccetera. Entrano nel guado per andare nell'altra riva, fino all'altra riva dove c'è la federazione europea, la stabilizzazione, la democrazia, il bene, eccetera, eccetera. Sono andati, in mezzo al guado, andando nell'acqua, si staccano da una riva incendiata. Ecco, progressi, no? Se si stava lì, si restava, si era bruciati. Progressi. Però non sono ancora arrivati all'altra riva e sono in mezzo al guado. Ora, voi sapete che essere in mezzo al guado non è tanto bello. perché in mezzo al guado è il punto in cui la corrente è più forte. Se stai troppo in mezzo al guado, la corrente più o poi ti porta via. L'indicazione europea è in mezzo al guado ed è una fase in cui, se non fa delle scelte serie verso la federazione europea, rapidamente rischia di essere spazzata via. In questo contesto sono importanti le elezioni europee dell'anno prossimo, sono un momento decisivo. In questo caso dovrebbero essere l'inizio e la scelta di andare avanti. Perché in questo caso invece sarà una grossa lotta fra i partiti che sono europeisti, ma sempre troppo moderati, e partiti che ci sono nel Parlamento europeo contro l'integrazione europea. Si parla di populisti, ma è generico, o che è euroscecita. Partiti contro l'integrazione europea. La Le Pen, fronte nazionale, ha il 24% e il Parlamento sarà forte. In Italia il partito di Grillo è contro la moneta europea, quindi è contro l'integrazione europea, vuole smantellare tutto, eccetera. La presenza forte e anche altri movimenti di questo genere, i veri finlandesi, pensate che bel partito, tutti gli altri sono da buttare via, però che è forte e così via. E allora ci sarà appunto uno scontro fra tendenze europeistiche, ma non devono diventare forti, dei partiti democratici, insomma, europeisti che sono i popolari, i socialisti, i liberali e i verdi, e le tendenze contrarie all'integrazione europea. E lì si decide, dovrebbe essere il momento in cui si decide, con la basso lale del consenso, di andare avanti. Quindi le elezioni europee del 14 sono un momento, non so se sono l'ultimo appello per andare avanti, ma sono un momento delicatissimo, insomma. Quindi questo è il quadro generale in cui si può collocare la ricostruzione dell'integrazione europea e la fase attuale in cui si trova e quindi i problemi che deve affrontare. Detto questo, appunto, passo la parola al professor Bordino, che conoscete, il professor del liceo D'Azeglio, ricordate, Pavese, Bobbio, di cui c'è un testo nel coso, no? E anche Bordino. Comunque, viene da un liceo, insomma, un liceo importante, insomma, e quindi parla sullo sviluppo del potenzio dell'integrazione europea, appunto, e quindi farà una ricostruzione delle linee essenziali, per quello che è possibile. Nella dispensa avete tutto il materiale per ricostruire, quindi, la parola a Fiesa, Piero. Voglio fare prima di tutto una premessa. L'argomento che mi è stato assegnato, che è lo sviluppo del processo di integrazione europeo, vuol dire gli ultimi 60 anni di storia dell'Europa, no? Raccontato un fatto dopo l'altro è micidiale, può risultare noiosissimo, ed è una cosa che non voglio fare, perché chiunque può prendersi un libro, una cronologia ragionata, e si va a vedere la storia del processo di integrazione, della dichiarazione Schumann in avanti. E siccome c'è anche poco tempo, c'è 20 minuti circa, vorrei fare un'operazione un po' diversa, cioè, che secondo me è più utile, e cioè di lanciare uno sguardo retrospettivo, a partire dal presente, parto dal presente in cui viviamo, lanciare uno sguardo retrospettivo sui 60 anni della storia dell'integrazione, e rileggerla criticamente, per fasi, andando a vedere quelle che Barbara Spinelli recentemente, in un articolo che molti di voi forse hanno letto, che riguardava poche settimane fa, ha chiamato le pieghe della storia. Le pieghe della storia. Che cosa sono le pieghe della storia? Sono quei momenti, nei processi storici, nei quali ci sono dei bivi possibili. Si può andare da un lato o dall'altro, si può scegliere una cosa oppure un'altra, perché la storia umana è il regno del possibile, ci sono delle possibilità che si presentano a noi durante il tempo, noi le possiamo cogliere queste possibilità oppure le possiamo perdere. La storia non è il regno della necessità, altrimenti saremmo inutili. Nella storia c'è un margine di libertà, diciamo così, di scelta, che noi esercitiamo oppure possiamo decidere di non esercitare. Io allora posso cercare di guardare il passato in questa luce, cioè chiedermi quali sono stati alcuni momenti della storia dell'integrazione europea in cui c'erano delle possibilità che non sono state prese, c'erano dei bivi che sono stati scelti in un modo piuttosto che in un altro. Credo che sia molto utile proprio alla luce del presente in cui viviamo, perché scopriremo che molti problemi che abbiamo noi oggi sono in qualche modo già stati presenti nel passato e la situazione in cui noi siamo oggi è molto dipendente dalle scelte fatte nel passato. Possiamo rileggere il passato alla luce del presente. Questo è il tentativo che faccio. Vi segnalo che la parola piega che Barbara Spinelli ha usato in quell'articolo può essere intesa in due sensi. Quindi piega della storia vuol dire un pezzo di storia un po' scuro, che si vede poco, ma vuole anche dire appunto un pezzo di storia, un momento nel quale c'è un bivio, c'è la possibilità di una scelta. Ho scelto questo modo di raccontarvi la storia dell'integrazione anche per contrastare un atteggiamento culturale che è molto diffuso negli ultimi tempi, cioè quello di considerare le cose che avvengono come necessarie. Non se ne può fare a meno. Questo è inevitabile. La Spinelli in quell'articolo sottolineava spesso questo aspetto che è molto legato agli ultimi 20-30 anni nei quali noi siamo stati abituati a sentire dire che questo lo vogliono i mercati, questo lo vuole l'Europa e non se ne può fare a meno. Cerchiamo di vedere quali sono le possibilità che abbiamo attraversato. Dato questa impostazione retrospettiva, allora io suddivido un po' la storia del processo di integrazione in alcune fasi e vi segnalo alcune pieghe, cioè alcuni bivi, che noi abbiamo vissuto e che sono stati più o meno giustamente scelti. Anzi, vi segnalerò le cose che sono state scelte in modo sbagliato. Allora, possiamo prendere una prima fase, 1950-1957. Di solito si fa iniziare l'integrazione con la dichiarazione Schumann del maggio del 50 quando il ministro degli esteri francese apre alla pacificazione con la Germania. Come sapete, Germania e Francia erano stati grandi nemici storici delle due guerre mondiali ma anche della storia precedente. La dichiarazione Schumann apre le porte alla cieca, cioè alla comunità europea del carbone e dell'acciaio perché mette in comune con la comunità quelle due risorse che sono il carbone e l'acciaio sulle quali si erano fatte le guerre, non solo su quello ovviamente, ma sulle quali fortemente si erano contesi, c'era stata la contesa franco-tedesca. La dichiarazione Schumann apre le porte alla cieca, già prefivora l'idea di una federazione europea, la dichiarazione Schumann, e si arriva dopo il 50, il 51 firma del trattato della cieca, il 54 c'è un primo bivio, una piega, una di quelle che io ho chiamato piega, perché viene approvato un progetto di comunità europea di difesa, cioè l'idea di mettere in comune gli eserciti, di creare un esercito europeo unico, e questa comunità europea di difesa a cui si sarebbe dovuto accompagnare una comunità politica, perché è un po' difficile immaginare un esercito comune senza un governo politico comune, non è pensabile, questa possibilità diciamo così viene bocciata perché l'Assemblea nazionale francese non ratifica il trattato della cede, la cede cade, c'è un primo bivio, ricordo questo perché attualmente siamo ancora qui, in questo senso è cambiato poco o niente, noi abbiamo oggi 28 eserciti in Europa, nell'Unione Europea, che costano la metà di quanto spendono gli Stati Uniti, quindi una cifra alta perché gli Stati Uniti sono la più grande potenza militare del mondo e sono quelli che spendono di più, ma la capacità operativa dei 28 eserciti europei, che sono 2 milioni di soldati, è considerata da tutti gli esperti il 10% di quella americana, quindi noi spendiamo la metà di quello che spendono gli americani, ma abbiamo il 10% di capacità militare che hanno gli americani, quindi un'assurdità, uno spreco, un esempio di come la difesa ad oltranza della sovranità nazionale sia un autogol. Dopo questa fase, sto parlando della fase 1950-57, si decide di passare ad uno sviluppo dell'integrazione europea su un piano essenzialmente di mercato, si fa il mercato e si arriva nel 57 ai trattati di Roma con cui si istituisce la comunità economica europea con un mercato, l'idea del mercato comune e si istituisce l'Euratom, cioè l'idea della comunità europea dell'energia atomica. Vi ho segnalato una piega, cioè un obivio che abbiamo attraversato, quello della CED del 54. Vi ricordo anche che quel contesto era molto diverso da quello che abbiamo noi oggi perché eravamo in piena guerra fredda, l'Europa era spaccata in due, quindi è evidente che fare la comunità europea di difesa nella parte occidentale aveva un significato oggettivamente anche di difesa contro l'Unione Sovietica, quindi per esempio non è a caso che tutti i partiti comunisti occidentali, ma anche altre forze di sinistra fossero contrarie. Eravamo nell'epoca in cui si stava facendo l'integrazione in Occidente, ma nel contesto del bipolarismo, cioè dello sconto tra i blocchi. Oggi questo contesto, come sapete, è radicalmente cambiato. Seconda fase che vi segnalo, 57-79. 57-69 si fanno dei notevoli passi in avanti nell'integrazione, perché nel 62, sempre su un piano essenzialmente economico, perché nel 62 si crea la politica agricola comune, nel 68 nasce l'Unione doganale, nel 72 inizia il serpente monetario, cioè si incominciano a mettere in relazione tra loro le monete per evitare troppo forti oscillazioni dei cambi, si chiama serpente monetario, da cui poi nascerà l'Unione monetaria, poi si arriverà alla moneta comune, all'euro. Vi ricordo il contesto in cui questo avviene. Nel 71 gli Stati Uniti, in modo unilaterale, dichiarano l'inconvertibilità del dollaro, cioè Nixon separa il dollaro dall'oro, fino ad allora il valore del dollaro era stabile, c'era il sistema dei cambi fissi, da 71 in avanti crolla il sistema dei cambi fissi, sistema creato nella conferenza di Bretton Woods del 44, e l'Europa giustamente si attrezza per evitare le conseguenze di questa instabilità monetaria e costruisce quei meccanismi che inizialmente sono chiamati del serpente monetario, dove il rapporto tra le monete è in qualche modo regolato. Poi nel 73 abbiamo la crisi petrolifera, quindi l'economia europea attraverso una prima grande crisi, lo sviluppo del sistema monetario prosegue e nel 79 si arriva, con questo chiudo questa faccia, nel 79 si arriva ad una scelta politica molto rilevante, una delle cose importanti fatte in quell'epoca, e cioè la prima elezione diretta del Parlamento europeo. Per la prima volta il Parlamento europeo viene eletto a suffragio universale diretto, quindi si rafforza la legittimazione democratica della comunità europea. Io qui di pieghe, come quelle che ho chiamato prima le pieghe, cioè di brevi in cui noi abbiamo scelto, perso delle occasioni, non ne vedo tanto, ma invece ne vedo almeno due nella fase successiva, 1980-2001, prendo questo pezzo qui, 1980-2001. Questa è una fase, c'è la prima legislatura del Parlamento europeo, perché da 79 inizia appunto i cinque anni del primo Parlamento europeo, e abbiamo una prima piega, come la Cama Spinelli, diciamo un primo bivio, una prima possibilità perduta di quest'epoca, molto pesante secondo me, che è quella del 1984, quando su iniziativa del Chiero Spinelli, che era deputato europeo, viene approvato dal Parlamento europeo a grande maggioranza un progetto di trattato costituzionale, cioè un progetto che 30 anni fa avrebbe introdotto in Europa un ordinamento di tipo costituzionale che preludeva in qualche misura ad una forma di statualità federale. Il cosiddetto progetto di trattato costituzionale Spinelli ha approvato a grande maggioranza che poi i governi degli stati nazionali bucciarono, cioè il progetto non andò avanti. Vi ricordo che quando Spinelli parlò nel Parlamento europeo per l'approvazione del progetto di trattato, raccontò un celebre apologo di Hemingway, quello che racconta la vicenda del pescatore, del vecchio pescatore, il quale pesca per la prima volta un grande pesce che si trascina dietro per arrivare a riva, e il grande pesce sta per trattato costituzionale, ma quando arriva alla riva il pescatore col pesce al traino, i pescecani si sono mangiati tutto il pesce e restato solo la lisca. Spinelli disse nella riunione del Parlamento, state attenti perché può accadere questo. Cioè sostanzialmente il trattato venne svuotato, non venne poi approvato, ratificato, e l'Europa perse un'occasione di unione politica nel 1984, siamo a 30 anni fa. La CED 1954, siamo a 50 anni fa. Siamo a almeno 30 anni fa. Dopodiché, ovviamente non è che tutto fu abbandonato, perché nell'86 si fece un accordo che viene chiamato atto unico, che prelude al trattato di Maastricht del 1992, che invece è molto importante, perché il trattato di Maastricht introduce la cittadinanza europea, fa delle riforme importanti, introduce la cittadinanza europea, stabilisce il diritto del Parlamento europeo di codecidere i provvedimenti legislativi in alcuni campi con il Consiglio, quindi rafforza il Parlamento europeo, perché prelude e stabilisce l'obiettivo della moneta unica, stabilisce una politica interna e di sicurezza comune, per esempio rende possibile la creazione di una forza di polizia comune europea, però non è il trattato spinelliano del 1984. E così arriviamo agli anni 90, qui c'è una seconda, allora la prima piega che vi ho segnalato è il fallimento del trattato costituzionale, del progetto di trattato di Spinelli dell'84. Ma se arriviamo agli anni 90, e su questo mi voglio soffermare un po' perché ho scoperto che è molto interessante andare indietro a rileggersi le vicende, se arriviamo all'inizio degli anni 90 c'è una seconda piega o, diciamo, occasione, possibilità non colta che noi incontriamo. Ed è il piano de l'or, il cosiddetto piano de l'or del 1993, quando la Commissione europea che era preseduta da Jacques Delors, il socialista francese, il politico francese, elabora un libro bianco sulla competitività e lo sviluppo in Europa, le vie per arrivare al ventunesimo secolo, intitolato il libro bianco, in cui prefigura un piano di sviluppo per l'Europa, prefigura un piano di sviluppo per l'Europa che prevedeva, nel momento in cui stava maturando, anche l'unione monetaria, perché Delors si rende conto che non si può fare soltanto un'unione monetaria, ci vuole una politica economica comune. E questo piano di sviluppo, questo piano Delors, libro bianco di Delors del 1993, offre una possibilità ai governi europei se la vogliono prendere. I governi non la prenderanno, come sapete tutti, il libro bianco resterà lettera morta e anche i successivi programmi della Commissione negli anni successivi, come la strategia di Lisbona del 2000, non verranno attuati. Questo libro bianco di Delors prevedeva la creazione di 15 milioni di posti di lavoro nei sei anni tra il 1993 e il 1999, con un piano di sviluppo degli investimenti che corrispondeva a un progetto di 120 miliardi in sei anni di ECU, perché allora non c'era la moneta comune, però c'era l'unità di conto europea, che si chiamava ECU, 20 miliardi all'anno di spesa, di cui, se non ricordo male, sei a carico del bilancio comunitario, sei a carico della BEI, della Banca Europea degli investimenti e otto di obbligazioni emesse, che sarebbe stata una novità, la cosa di cui si parla anche adesso, obbligazioni emesse dall'Europa, dalla Commissione, che corrispondeva fra l'altro ad una cifra in lire di quell'epoca di 235 mila miliardi di lire, di lì al 1999. Avrebbe dovuto questo piano, insieme a provvedimenti sul mercato del lavoro e ad altri provvedimenti, portare ad una crescita di 15 milioni di posti di lavoro. era un piano molto impegnativo e su questo piano di Delors, di cui volendo si può poi approfondire ancora, ma in ogni caso, questo piano di Delors incominciò ad essere mitragliato già prima che venisse reso pubblico e presentato al Consiglio europeo del 10-11 dicembre 1993. E' molto interessante andare a leggere che cosa scrivono i corrispondenti dei giornali italiani sul piano Delors nei giorni precedenti o immediatamente susseguenti alla sua presentazione. Questo piano viene, dunque, vi cito un articolo della corrispondenza di Repubblica, per fare un esempio, del 6 dicembre 1993. Il piano verrà presentato al vertice dei capi di Stato e di governo, verrà presentato al Consiglio europeo, credo, il 10-11 dicembre. Nei giorni precedenti c'è una corrispondenza di Repubblica, ho anche visto il Corriere della Sera, come sapete adesso gli archivi dei giornali sono online, quindi uno se le può andare a vedere. Se io leggo 6 dicembre 1993, il titolo dell'articolo è Silurato il piano Delors, congeliamo i salari. La risposta principale è Silurato il piano Delors, congeliamo i salari, la scelta che viene fatta. Delors proponeva interventi sul mercato del lavoro per renderlo più flestibile, ma proponeva nello stesso tempo un grande piano di investimenti, possiamo chiamarlo un piano keynesiano. Se io vado a leggere che cosa si racconta in quei giorni, è molto interessante vederlo, perché già a novembre la Bundesbank in Germania, il governo tedesco, gli inglesi cominciano a dire che questo piano non va bene, perché si vuole trasformare l'Europa in un banchiere, si spendono troppi soldi, noi dobbiamo contenere i defici del bilancio, non spendere tutti questi soldi. Fra l'altro anche il governo italiano, che pure aveva ciampi dentro, dice ma questa idea di emettere obbligazioni potrebbe intasare il mercato del credito, il mercato delle obbligazioni, non c'è entusiasmo di fronte a questa roba qua. E quindi in Inghilterra i giornali, il governo in modo sarcastico dice ma questo Keynes, Delors viene paragonato a Keynes, si dice ma questo qui vuole fare il Keynes degli anni 90, Keynes come sapete l'economista che lanciò le idee che stanno alla base dell'uscita dalla crisi degli anni 30. Però l'allarme che c'era allora, io vi leggo le parole di Delors, siamo nel 1993, l'allarme che c'era allora sulla crisi economica e sociale in Europa, e anche politica, mi ricorda fortemente quella di questi giorni, eppure siamo a vent'anni di distanza. Sentite cosa dice Delors su questi problemi. Allora, Delors dice che gli viene in mente un'immagine terribile di mezzo secolo fa, quando ancora bambino vede per le strade della Francia, la Francia della sconfitta militare, migliaia di persone allo sbando, soldati in rotta, generali in fuga. Lui francese descrive la situazione europea in termini non molto diversi. Dice, siamo nel 1993, attenzione, dice, è ovunque un divorzio tra la gente comune e le classi dirigenti, c'è ovunque un divorzio tra la gente comune e le classi dirigenti. Lo smarrimento è totale e prima o poi un capopopolo potrebbe elevarsi a indicare un nemico magari negli immigrati. anche qui, quando l'ho letto, mi sono venuto in mente un po' di cose. È un continente, questo, dice Delors, che non ha più competitività produttiva, non ha nemmeno più la competitività produttiva. Ha perso la capacità di assicurare la piena occupazione, adesso lo sappiamo, e nel quale l'invecchiamento della popolazione sta mettendo a rischio le conquiste dello Stato sociale. Ma queste cose sono scritte nel 1993, attenzione, siamo vent'anni dopo, abbiamo passato vent'anni inutilmente, in Italia poi li abbiamo passati peggiorando la situazione, non inutilmente. Vado avanti. Delors constata con amarezza che è fallita la prima fase dell'unione economica e monetaria. Essa avrebbe dovuto rafforzare la convergenza delle dodici economie. Allora erano dodici paesi i membri dell'unione, non ventotto come oggi. E invece la convergenza è diminuita. Ma se io vado a vedere le assimetrie che ci sono oggi, dopo vent'anni da queste cose scritte qua, tra l'economia dei paesi europei, tra Germania e Italia, Germania e Grecia, eccetera, vedo che sono cresciute. Allora gli allarmi lanciati nei giorni del piano Delors, che poi non fu approvato e invece era una possibilità di fronte di noi, sono molto evocativi, perché fanno venire in mente cose di cui stiamo discutendo ampiamente oggi. Allora, questa fase 1980-2001, sto parlando di questa fase, ha queste due pieghe, diciamo così, una quella del Trattato Costituzionale di Spinelli dell'84, l'altra quella del Libro Bianco del 1993, dopodiché ovviamente le cose non stanno ferme per niente, si arriva alla nascita dell'EU nel 1999, c'è il vertice di inizia del 2001, il vertice dei capi di Stato che fa nascere la Carta Europea dei diritti fondamentali, la cosiddetta Carta di inizia che è essenziale perché, tra l'altro oggi, come sapete, è diventata vincolante per i cittadini per gli stati, come è scritto nel Trattato di Lisbona, quindi ormai è un pezzo di una Costituzione europea, possiamo dire, ma sta di fatto che noi abbiamo attraversato queste due pieghe e le abbiamo perse. Vado avanti, l'Europa nel frattempo è cresciuta, io qui non ho parlato dell'estensione, ma siamo partiti da sei membri, negli anni 70 sono entrati l'Inghilterra e i paesi del nord Europa, siamo arrivati a 12, poi negli anni 80 sono entrati i paesi ex fascisti, cioè la Spagna, il Portogallo e la Grecia all'inizio degli anni 80, quindi siamo cresciuti a 15 e così via, c'è stato l'allargamento e questo periodo 1980-2001 ha visto poi un successivo allargamento decisivo che è quello derivante dalla caduta dell'Uro di Berlino, dalla fine dell'Unione Sovietica e dall'ingresso dei paesi ex comunisti in Unione, dopo il 1989 che è l'anno della caduta dell'Uro e il 91 che è l'anno della dissoluzione dell'Unione Sovietica, entrano progressivamente i paesi ex comunisti. C'è un allargamento che porta poco per volta ad arrivare ai 28 che siamo oggi. Questo allargamento avviene però senza un adeguato rafforzamento delle istituzioni, questa è un'avvertenza che molte volte era stata data, ci allarghiamo molto ma dobbiamo avere un perno su cui reggere l'allargamento, altrimenti l'allargamento non funziona. 2002-2007, qui abbiamo, 2002 entra in circolazione l'Euro, dall'inizio del 2002 l'Euro è diventata la moneta che circola, abbiamo una moneta senza Stato, questo è il problema che abbiamo oggi di fronte, senza governo economico comune, senza governo politico comune, è una cosa che non può reggere, molti l'avevano già detto allora, è una cosa che poteva reggere un po' di tempo ma adesso non può più reggere, anche perché di mezzo tra il 2002 e il 2007, la fase di cui sto parlando, c'è stata la crisi mondiale iniziata negli Stati Uniti nel 2007-2008 e in cui siamo ancora immersi, la crisi iniziata come crisi finanziaria è poi diventata recessione e quindi è evidente che questo nodo e cioè di una moneta comune senza un governo economico e politico comune non poteva reggere. Allora in questa fase, 2002-2007, in cui la moneta unica è una grande conquista, c'è un'altra piega e sarebbe la quarta piega che metto in evidenza, il quarto bivio e cioè come sapete dopo gli accordi di Lachen del 2001 viene creata la convenzione costituente, cioè si decide di creare una grande convenzione costituita da parlamentari europei, parlamentari nazionali, rappresentanti dei governi, rappresentanti della commissione, la convenzione che è presieduta da Giscard d'Estaing che lavora fino al 2003 e che doveva preparare un progetto di trattato costituzionale, un progetto di trattato costituzionale, una costituzione si dice. Noi siamo abituati a pensare alle costituzioni come nascenti da assemblee costituenti, in questo caso sarebbe una costituzione nata da un trattato internazionale, una cosa un po' diversa. Allora viene prodotto questo trattato costituzionale nel 2003, nel 2004, nell'approvato, poi però le ratifiche che prevedeva appunto un rafforzamento delle istituzioni, era di nuovo un avvio prefederale delle istituzioni europee, però come sapete nel 2005 il referendum in Francia e in Olanda per la ratifica del trattato costituzionale bocciano il trattato, c'è una maggioranza euroscettica sia in Francia che in Olanda e quindi il trattato costituzionale nato dalla Convenzione viene bocciato. Non dico abbandonato perché poi molti elementi di questo trattato entreranno nel trattato di Lisbona che è quello attualmente in vigore, che viene approvato nel 2007 e entrerà in vigore nel 2009. Però l'idea della Costituzione Comune, del trattato costituzionale comune, viene per la seconda volta bocciato. Questa volta però, vi segnalo questo perché è significativo, non sono più i governi soltanto che l'hanno bocciato, o tanto i governi, ma c'è una bocciatura popolare perché noi abbiamo due paesi in cui la maggioranza ha il referendum, boccia il trattato. E uno di questi paesi non è un paese qualsiasi, ma è la Francia. Vuol dire che il vento del consenso, il vento del consenso all'integrazione europea è un po' cambiato e è diminuito e siamo in crisi, siamo in una fase di crisi. D'altra parte lo si era già visto, chiaramente, lo si vedrà, anzi non lo si era già, lo si vedrà chiaramente nelle elezioni europee del 2009, perché se voi guardate il tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2009, vedete che è sceso al 43%, votano il 43% degli aventi diritto, è il tasso più basso da quando è nato il Parlamento europeo. Speriamo bene per le elezioni di maggio, in questo senso. Quindi, arriviamo così, poi nel 2007, ho messo il periodo 2-2007, poi nel 2007 esplode la crisi 2007-2008, quella di cui ho fatto accenno prima, la crisi mondiale nata negli Stati Uniti, in cui siamo pienamente dentro, e arriviamo all'ultimo pezzo del processo di integrazione, e cioè il pezzo 2007-2013. Allora, il pezzo 2007-2013 sarebbe gli anni in cui noi oggi viviamo. Ora, a me sembra che oggi, e qui c'è, viene sostanzialmente, in questa fase nasce, si sviluppa soprattutto l'idea di una stabilizzazione dell'economia europea con dei criteri automatici, non solo vengono confermati i criteri automatici del trattato di Maastricht, cioè non si può sforare il 3% del deficit, non si può sforare, oppure si sfora, ma bisogna recuperare il 60% del debito sul PIL. Ma viene introdotto il patto di stabilità, un controllo europeo sui bilanci degli Stati nazionali, l'obbligo di mettere nelle Costituzioni nazionali il divieto di deficit, l'obbligo del pareggio del bilancio, e così via. Questa cosa si accompagna alla fase di crisi finanziaria e poi di recessione dentro la quale siamo. Noi in Italia siamo, credo, ormai da 5 anni in recessione, abbiamo perso un pezzo molto grosso del PIL. Leggevo ieri che si parla di defrazione in Grecia. Allora, noi oggi siamo in una fase di integrazione, come poi dirà, rimando all'intervento del professor Maiocchi, in cui è evidente che siamo al bivio tra una disintegrazione oppure un salto in avanti, cioè una federazione, perché siamo in una condizione drammatica. Io la configuro, sintetizzo questa crisi in cui siamo in tre dimensioni. Secondo me c'è una crisi in tre dimensioni. La prima dimensione è una crisi di funzionamento dell'Unione Europea, la seconda è una crisi di progetto, la terza è una crisi di consenso. Se voi mettete insieme questi tre tipi di crisi, viene fuori un combinato disposto, come dicono i giuristi, molto preoccupante. Che cos'è la crisi di funzionamento in cui siamo oggi? La crisi di funzionamento, secondo me, ha due facce. Per un verso è una crisi di struttura, cioè le strutture, l'ordinamento dell'Unione, come oggi, è assolutamente inadeguato. Assolutamente inadeguato, sia dal punto di vista dell'efficacia, perché non si riesce a prendere decisioni, pensate che la politica fiscale è decisa, praticamente non è nelle mani dell'Unione perché può essere decisa solo all'unanimità, e pensate alla politica estera, l'Unione Europea non ha politica estera in pratica perché può essere decisa solo all'unanimità, praticamente sono due paralisi. Allora abbiamo, per un verso, un ordinamento, una struttura, un ordinamento istituzionale inadeguato, non sufficientemente efficace, perché non si possono prendere decisioni, non sufficientemente democratico, perché, come ha già detto prima Pestone, tranne il Parlamento Europeo, che però ha poteri limitati, gli altri organismi non sono espressione popolare, sono espressione dei governi. E la percezione che la gente ha delle decisioni prese a Bruxelles è una percezione, come sapete, estranea, cioè è qualcuno che decide per me senza che io abbia dato il mio consenso. Quindi c'è una crisi di funzionamento che per un verso è una crisi di struttura, cioè una crisi di ordinamento inadeguato, e per altro verso è una crisi di politiche, perché le politiche che si fanno non vanno bene. Allora, le politiche che si fanno sul piano economico monetario sono politiche a senso unico, quelle dell'austerità, che sono fra l'altro un autogol, perché, come si dimostra negli ultimi anni, queste politiche finalizzate a ridurre il deficit e a ridurre i debiti hanno fatto aumentare i debiti. Perché se voi fate delle politiche che fanno diminuire il PIL, è evidente che questo fa diminuire la base imponibile su cui si esercita il potere fiscale, quindi fanno diminuire gli impoiti degli stati. E quindi c'è una crisi che si avvita su se stessa. E non vanno bene nemmeno le politiche, come dire, a parte la politica estera che non c'è, e ne paghiamo i prezzi, per esempio in Medio Oriente, ma anche le politiche di coesione sociale che sono inadeguate. Noi abbiamo un livello di asimmetrie territoriali e asimmetrie sociali in Europa oggi troppo alto, che può essere pericoloso. Ne parlava già dell'Or nel 1993 di questo. Poi, oltre alla crisi di funzionamento, che delegittima l'Unione, perché la gente dice «Ah, le cose così non mi piacciono», noi abbiamo una crisi di progetto, che è una crisi più, se volete, politico-culturale. E cioè che non è più chiaro, e nessuno ha il coraggio invece di dirlo, dove vuole andare l'Europa, che cosa vuole fare, che ruolo vuole giocare. La crisi di progetto vuol dire che non si costruisce un futuro, che non si danno orizzonti da guardare verso il futuro. che mentre noi, ovviamente, come sapete, la nostra identità ce la costruiamo progettando, cioè non soltanto per come siamo, ma per come vorremmo diventare. La crisi di progetto è la crisi delle leadership politiche europee. Dove lo trovate in Europa oggi un leader politico al governo che abbia visione, quella che si chiama visione? La visione che avevano De Gasperi, che aveva Spinelli, che aveva Colle, eccetera. Sono classi politiche, lo dico un po' brutalmente, malate di due malattie micidiali. Una si chiama miopia, e cioè una malattia intellettuale, che è l'incapacità di vedere oltre il proprio naso, di guardare lontano, e ne aveva parlato bene Tommaso Pado Aschioppe in un libro sulla vista corta, cioè il fatto di non vedere lontano, la miopia, e l'altra malattia, ancora più grave, che è la prima si può curare mettendosi gli occhiali da miope, la seconda malattia è l'opportunismo. L'opportunismo consiste nel fatto, una malattia che le classi politiche europee hanno fortemente oggi, con il fatto di inseguire l'opinione pubblica e soprattutto di guardare al mercato elettorale e di esprimere opinioni e fare scelte che si ritengono opportune allo scopo di ottenere il consenso. Si chiama opportunismo. I grandi statisti, se sono tali, non sono opportunisti, sono disposti a correre i rischi perché sanno che non lavorano per l'oggi, ma che lavorano per il domani, quindi può darsi che oggi perda le elezioni, ma domani potrei perdere l'Europa, che è peggio. Allora, se voi mettete insieme queste due malattie di cui oggi soffrono le leadership politiche europee, cioè la miopia per l'opportunismo, viene fuori un risultato preoccupante, no? perché manca una leadership politica europea in grado di guardare, di fare un progetto sul futuro, come in passato invece c'è stato. Se poi penso a uno come Spinelli, che aveva la visione nel 1943, in piena guerra e in clandestinità, mi viene veramente pena a pensare a leader politici che non sono in clandestinità, che non sono nella seconda guerra mondiale, ma non hanno nemmeno il coraggio di guardare i prossimi due o tre anni, guardano i prossimi due o tre mesi, cioè la prossima scadenza elettorale. Questa è la crisi di progetto. È evidente che essendoci una crisi di funzionamento, essendoci una crisi di progetto, c'è inevitabilmente una crisi di consenso. E la crisi di consenso è evidentissima. Non solo la si vede dalle tassi di partecipazione all'elezione del Parlamento europeo, l'ho citato, quella del 1999, ma la si vede dalla crescita molto forte di movimenti anti-europei in tutti i paesi europei. Citava prima il pistone il movimento di Le Pen in Francia, che è stimato al 24% del consenso elettorale, ma tutti i paesi europei hanno oggi in ascesa forti movimenti nazionalisti, anti-europei e in alcuni casi razzisti, come Alba Dorata in Grecia. Tra l'altro del rischio del razzismo ne parlava De Lourne nel 1993, quando diceva quelle cose che vi ho letto. Diceva anche, appunto, ve l'ho letto questo, che c'è il rischio che poi si sorga qualcuno che dice che tutta questa roba qua è colpa dei migranti. E quindi noi arriviamo oggi a questa situazione di cui credo parlerà poi il professor Maiocchi, cioè abbiamo di fronte il rischio di disintegrazione che nasce da queste tre crisi, secondo me, che ho cercato di delineare, oppure il coraggio di scegliere la strada dell'unione politica e di proporsi come soggetto politico uretario, che tradotto in parole povere vuol dire fare in Europa una federazione, perché non è pensabile uno stato uretario che in un contesto come quello europeo si tratta di fare uno stato federale, che abbia un forte decentramento e così via. Chiudo. Se io ripenso a tutte le pieghe, cioè ai bili che abbiamo attraversato, capisco meglio come mai siamo arrivati all'oggi. Abbiamo perso dei treni, abbiamo perso delle possibilità, queste possibilità oggi in qualche modo sono tutte di fronte a noi, nel senso che abbiamo la possibilità di fare politiche economiche diverse da quelle che facciamo, abbiamo la possibilità di cambiare l'ordinamento istituzionale dell'Europa, ma c'è il rischio che per l'ennesima volta si perda il treno. E quindi su questo passo la parola al professor Maiocchi, che parlerà di disintegrazione o federazione. Grazie. Parola al professor Alberto Maiocchi, che è un docente di scienza delle finanze all'Università di Pavia, ma è una cosa importante, ha fatto parte della commissione MacDougal che alcuni anni fa aveva proposto un rafforzamento del bilancio comunitario, adesso non c'è ancora, ma ogni volta che c'è il problema di triplicare il bilancio comunitario che è neanche l'1% del prodotto lordo europeo, europeo, negli Stati Uniti è il 26%, e comunque ogni volta che si parla seriamente di questo si fa riferimento a questo rapporto di cui lui è stato un esponente della commissione che ha elaborato questo rapporto. Quindi la parola che tratta il tema è l'indicazione europea di fronte all'alternativa fra federazione europea e disgregazione. La parola ai cittadini europei. Sì, grazie. Sì, il mio intervento si colloca nelle cose che ha detto Bordino prima, in particolare nell'ultima fase che ha descritto e che ha inquadrato gran parte dei temi che io vorrei trattare rapidamente. Io parto naturalmente dal 2007, diciamo, all'inizio della crisi, quindi cercherei molto rapidamente di dare una mia interpretazione, una nostra interpretazione di come è nata la crisi, come si è sviluppata, qual è stata la risposta europea che è evidentemente inadeguata e dove dobbiamo arrivare se vogliamo evitare il rischio della disintegrazione. Allora, io partirei da questa considerazione. Per quanto riguarda la crisi c'è un'interpretazione corrente che dice che la crisi internazionale è dovuta innanzitutto all'Europa, la crisi è una crisi europea, secondo luogo che la crisi è dovuta alla crescita del debito pubblico nei paesi europei. Io credo che entrambe le interpretazioni siano sbagliate. Molto semplicemente, la crisi non è nata in Europa ma è nata negli Stati Uniti, la crisi non è nata dal debito pubblico, cioè dal comportamento degli stati, ma è nata dalla finanza privata. Ora, individuare correttamente l'origine della crisi è importante per cercare di uscirne, perché ho l'impressione che le politiche che sono state adottate finora per uscire dalla crisi sono inefficaci e lo vediamo anche dai dati che Bordino ricordava precedentemente. La crisi nasce negli Stati Uniti perché, molto rapidamente, il governo Bush adotta, vuole fare una politica per dare la casa a tutti gli americani, quindi fa una politica creditizia per cui le banche sono indotte a concedere prestiti a tutte le famiglie, comprese le famiglie che non saranno poi in grado di restituire il prestito, i cosiddetti mutui subprime, cioè si danno prestiti a famiglie sapendo che questi comunque non saranno in grado di rimbostare il prestito che hanno avuto per comprare la casa. Ora, come mai le banche danno questi prestiti? Non è che le banche siano enti di beneficenza, lo sappiamo bene. Le banche danno questi prestiti perché c'è un boom immobiliare negli Stati Uniti e i prezzi delle case continuano a salire. Quindi io ti faccio il prestito, per un anno tu restituisci le rate, poi non ce la fai più, cosa faccio? Ti cucco la casa, la rivendo, dato che il prezzo delle case è aumentato, le banche ci guadagnano le commissioni sul mutuo e in differenza di valore fra quanto hanno concesso di mutuo e il valore delle case. In più, questo provoca ulteriori ondate di credito perché le famiglie che hanno comprato la casa possono chiedere altri prestiti a altre banche per comprarsi la macchina, gli elettrodomestici e così via. Cioè c'è un boom creato dall'espansione del credito. Tutto questo funziona efficacemente fino a quando il prezzo delle case cade, sale. Quando a un certo punto la bolla immobiliare scoppia e i prezzi delle case non salgono più, le banche non riescono più a rivendere le case sui mercati entrano in crisi e le grandi banche di investimento americane nate da questa scelta sciagurata del governo Clinton che aveva eliminato la distinzione fra le banche di deposito e le banche di investimento per cui le banche raccolgono i soldi dei risparmiatori poi li investono facendo delle speculazioni degli investimenti rischiosi le banche americane saltano e diciamo lo spartiacco della crisi è il 15 settembre del 2008 quando cade Lehman Brasas Lehman Brasas quando si parlava di Lehman Brasas in Europa bisognava alzarsi in piedi fare un inchino come faceva il comandante Schettino davanti all'isola del Giglio e Lehman Brasas ha fatto la fine della concordia di fronte all'isola del Giglio cioè fallisce Lehman Brasas qual è il problema? che nel frattempo le banche europee avevano comprato un sacco di titoli americani perché Lehman Brasas Lehman Brasas aveva la AAA anche questa cosa le agenzie di rating famosissime anche loro molto serie severissime danno la AAA a Lehman Brasas l'unico problema è che Lehman Brasas fallisce quindi tutti quelli che hanno comprato le banche europee che hanno comprato titoli venduti da JP Morgan Lehman Brasas e altre banche di investimento americano si trovano in gravissima difficoltà allora qui è il collegamento cioè la crisi nasce negli Stati Uniti la crisi nasce dal debito privato dalla politica creditizia il governo americano ma poi si trasferisce in Europa si trasferisce in Europa diventa una crisi delle banche europee che hanno acquistato titoli di banche americane che non valgono più niente che sono diventati carta straccia quindi le banche prendete il caso dell'Irlanda l'Irlanda era considerata anche qui un paese estremamente virtuoso paese tassi di crescita enormi saldo di bilancio di equilibrio bilancio di pagamento inattivo era il paese modello le banche irlandesi si sono riempite di titoli americani entrano in crisi il governo irlandese interviene per salvare le banche in un anno il bilancio dell'Irlanda raggiunge un disavanzo superiore al 32% del debito pubblico cosa che ha fatto molto irritare gli italiani perché erano abituati a avere il primato del disavanzo e si trovano superati di un solo colpo la cosa non riguarda solo l'Irlanda ma anche la Spagna la Spagna aveva un bilancio inattivo prima della crisi entra in crisi perché lo Stato spagnolo deve aiutare le banche spagnole anche qui i grandi gruppi bancari spagnoli entrano in crisi e lo Stato lo deve salvare quindi qui scopriamo il secondo nesso il primo è partiamo da una crisi americana la crisi diventa europea partiamo dalla crisi determinata dal debito privato dall'eccesso di debito privato e arriviamo alla crisi del debito pubblico la crisi del debito pubblico provoca quindi una reazione nei paesi europei cioè si deve cercare di evitare il collasso della finanza pubblica nei paesi che fanno parte dell'area dell'euro perché la caduta di un paese che fa parte dell'area dell'euro avrebbe portato a una situazione di collasso anche della moneta unica quindi si iniziano quelle politiche che Bordino ricordava che sono le politiche di austerità le politiche di austerità hanno alcuni effetti umoristici anzi se vogliamo trovare qualche elemento positivo effetto umoristico è che ci sono alcuni economisti fra cui alcuni economisti italiani di grande prestigio che scrivono anche su un grande quotidiano che ha sede in via Solferino questi grandi economisti italiani italiani europei americani pensavano che fare politiche restrittive favoriva la crescita era quella favola degli effetti antichinesiani della politica fiscale cioè basta ridurre la spesa pubblica aumentare ridurre il disavanzo per creare la crescita e l'idea geniale di questi economisti è come mai succede che la crescita aumenta evidentemente Keynes non la pensava così se si fa più spesa e si riducono le imposte il PIL aumenta se si aumentano le imposte e si riduce la spesa il PIL diminuisce è una cosa che un bambino dell'elementario anche dell'asilo capisce ma chi è stato istruito in certe università americane fa fatica a comprendere l'idea è che gli uomini sono la teoria di fondo e la teoria dell'aspettativa razionale di un grande economista anche qui fortunatamente è defunto ma i danni li ha già fatti la teoria dell'aspettativa razionale cosa dice se io riduco il deficit la gente spende di più non come pensava Keynes spende meno perché pensa che in futuro non avendo più il deficit da colmare avremo meno tasse da pagare e quindi spenderemo di più ora quest'uomo razionale nella realtà non esiste perché in realtà le politiche deflazioniste portate avanti in Europa hanno portato a una caduta del prodotto interno lordo Bordino lo ricordava in Grecia le politiche di austerità hanno ridotto di 6 punti percentuali la quota del disavanzo pubblico sul PIL ma il costo è stata una perdita del 21% del prodotto interno lordo cioè un quinto del PIL greco è scomparso e voi sapete l'alba dorata è il frutto maledetto della crisi perché evidentemente cosa che noi abbiamo sperimentato dopo la prima guerra mondiale che ha portato alla crisi del 29 perché è il frutto maledetto di queste politiche di austerità ma queste politiche di austerità hanno questo primo effetto l'idea degli effetti antichenesiani di politica fiscale è una favola è ridicolo ormai lo dicono anche le organizzazioni internazionali come ricordava Bordino se faccio politiche di austerità il disavanzo tendenzialmente aumenta perché appunto avrò meno gettito fiscale dovrò pagare più sussidi di disoccupazione aiutare le imprese quindi ogni anno io dovrò fare più austerità ancora quindi il problema da questo circolo vizioso si esce soltanto se io faccio politiche di austerità nei paesi membri dell'unione economica e monetaria ma come diceva Padoa Schioppa c'è qualcuno che fa la crescita e chi fa la crescita è l'Europa e su questo ritorneremo vorrei anche mettere in evidenza un altro aspetto le politiche di austerità la Germania ha sostenuto fortemente le politiche di austerità e la tesi del governo tedesco è anche molto ragionevole dice noi abbiamo fatto in Germania a partire dalle riforme introdotte dal governo Schröder in poi una serie di riforme sul mercato del lavoro una politica fiscale molto attenta per cui in Germania abbiamo una buona situazione economica un bilancio sano vi dicevo nei paesi dell'Europa e del sud invece si è fatta una politica della follia cioè spese i consiglieri regionali prendono i rimborsi per pagare le loro spese nuziali o per fare i viaggi matrimoniali cioè tutte queste cose qui in Germania le sanno e dico ma noi dobbiamo sostenere l'Italia la Grecia la Spagna fanno questo tipo di politica questo è il primo elemento la politica di austerità ha una giustiziazione morale noi dobbiamo non dobbiamo premiare il vizio la virtù è la virtù portata avanti in Germania il vizio è quello dei paesi dell'Europa e del sud il secondo elemento che giustifica la scelta tedesca è quello che gli economisti chiamano l'azzardo morale il moral hazard cioè a dire se noi gli aiutiamo e gli consentiamo di superare la crisi i governi non fanno più le riforme che sono necessarie perché le riforme portano via consensi cioè se io devo mettere a posto il bilancio dello Stato devo aumentare le imposte ridurre la spesa perdo dei consensi elettorali se l'Europa mi mette la pistola alla tempia e dice o fai così oppure non ti diamo gli aiuti le riforme vengono fatte se noi concediamo comunque degli aiuti a tutti le riforme non vengono più fatte quindi la politica di austerità è una politica giustificata allora io credo sia giusto fare un punto preciso su questo la politica di consolidamento fiscale da parte degli stati membri dell'Eurozona dell'Unione Monetaria è fondamentale non si fa sviluppo con il debito non si fa sviluppo con il debito come hanno fatto per anni gli americani che venivano a farci la morale a noi perché l'Italia l'Europa viveva al di sopra dei propri mezzi e poi hanno fatto questi disastri che hanno rovinato l'economia mondiale facendo una politica fiscale creditizia espansiva creando di inflazione e così e lo stanno facendo ancora e lo stanno facendo ancora perché gli Stati Uniti oggi stanno uscendo dalla crisi a ritmi più elevati di quelli europei perché fanno politiche monetarie espansive la stessa cosa fa il Giappone l'Europa non può seguire questa strada ma è una scelta molto complicata perché questo significa che gli stati membri dell'Unione Monetaria devono fare politiche di austerità cioè ognuno deve mettere a posto i propri conti deve evitare le spese inutili deve evitare la corruzione deve evitare che intere regioni italiane siano governate dalla mafia della Camorra che il mercato del lavoro sia funzionale che le riforme del mercato del lavoro facciano aumentare l'occupazione e non invece la disoccupazione c'è un insieme di riforme che devono essere portate avanti quindi è giustissimo che la Germania che ha fatto il suo dovere in questi campi imponga agli altri stati di fare i loro compiti a casa tutto questo è giusto se accanto le politiche di consolidamento fiscale all'interno di ciascun paese c'è una politica di sviluppo e la politica di sviluppo la può fare soltanto l'Europa come diceva Paolo Schioppa agli stati il rigore all'Europa lo sviluppo allora si tratta di vedere se la politica di sviluppo è una politica ragionevole si può fare se ci sono le basi economiche e politiche per portare avanti una politica di questo genere in Europa Pistone ricordava prima il bilancio europeo non è in grado oggi con le risorse che abbiamo di fare una politica di crescita il bilancio europeo è l'1% del prodotto interno lordo non ci sono vere e proprie imposte europee e gran parte del bilancio sappiamo è assorbito dalle spese per la politica agricola poi c'è una parte di spese per le politiche di coesione e di solidarietà il fondo di sviluppo il fondo di coesione il fondo regionale il feoga agricolo e così via oggi se vogliamo fare politiche di sviluppo dobbiamo prima di tutto trovare nuove risorse e in secondo luogo definire le caratteristiche di un piano europeo di crescita allora in primo luogo la politica di sviluppo si può fare all'interno dell'eurozona in Europa ormai si è consolidata una divisione fra l'unione europea diciamo allargata e comprende tutti i paesi e l'area dell'eurozona nell'unione europea sono compresi paesi che non vogliono un'unione monetaria infatti non sono entrati nell'euro e non vogliono uno sviluppo verso la federazione europea chiaramente quando c'è la nebbia sulla manica gli inglesi dicono il continente è isolato perché pensano che loro sono il punto di riferimento del mondo e quindi loro vogliono mantenere la loro sovranità gli svedesi gli scandini fanno politiche molto avanzate dal punto di vista sociale e ambientale e non vogliono entrare in Europa diciamo a pieno titolo in una federazione perché pensano che queste politiche sarebbero minori meno incisive a livello europeo quindi c'è una parte di paesi europei che comunque ha scelto di entrare nell'unione europea per garantirsi i vantaggi del mercato interno ma non vuole avanzare verso l'unione politica quindi la base su cui si può lavorare per portare a complimento il processo di unificazione federale è l'eurozona il che non vuol dire che gli altri paesi non possono entrarci gli altri paesi se io sono convinto che molti paesi se si facesse veramente l'unione federale nei paesi dell'eurozona entrerebbero ma per il momento si parte dall'eurozona come diceva Mitterrand e si avanza a Vex Chigudron coloro che sono disposti ad andare avanti quindi questa è l'area di riferimento in quest'area è possibile creare delle risorse per finanziare un piano di gruppo io credo ci siano almeno due risorse e qui ritorniamo a quella tripartizione che diceva Bordino che ricordava che De Lora aveva già anticipato nel libro bianco del 1993 ci sono risorse proprie possibili per il bilancio dell'eurozona c'è la possibilità di finanziare con interventi della banca europea degli investimenti si possono una volta che il bilancio dell'eurozona avrà risorse proprie si possono emettere euro bonds cioè obbligazioni europee per finanziare il piano di sviluppo le imposte sono due non entriamo nei dettagli ma sono l'imposta sulle transazioni finanziarie e la carbon tax l'imposta sulle transazioni finanziarie nasce dall'esigenza la cosiddetta Tobin Tax già proposta da tempo da questo economista americano che diceva i mercati finanziari sono diventati e aveva ragione tanto tempo fa i mercati finanziari sono diventati mercati fortemente speculativi oggi io compro a Singapore fra un secondo vendo in Indonesia riacquisto titoli sul mercato della Thailandia vendo in Canada si fanno milioni di transazioni finanziarie ogni giorno e ogni volta si cerca di guadagnare un piccolo margine che alla fine diventano margini enormi ebbene queste transazioni non producono benefici sull'economia reale e sul benessere dei cittadini producono vantaggi solo per coloro che lavorano nel settore della finanza non per l'insieme della collettività quindi queste transazioni devono essere tassate questo è il contributo che chi guadagna facendo finanza speculativa dà al finanziamento delle spese pubbliche in generale la seconda imposta che può essere utilizzata è la carbon tax perché noi dobbiamo fronteggiare il problema dei cambiamenti climatici questo enorme problema derivante dall'uso dei combustibili fossili e la carbon tax ha una funzione molto semplice io tasso chi usa combustibili fossili non viene tassato chi usa energie rinnovabili quindi in questo modo io induco da un lato un risparmio di energia perché costa di più l'energia e quindi avrò convenienza a risparmiare sull'uso delle fonti energetiche e in secondo luogo è un incentivo per passare dall'uso di combustibili fossili all'uso di energie rinnovabili non abbiamo più bisogno del sistema degli incentivi che abbiamo in Italia per favorire il solare l'eolico e così via basta l'imposta cioè se io compro oli minerali o gas naturale pago un'imposta se l'energia elettrica viene prodotta con l'idroelettrico l'eolico o col solare non pago imposte e quindi le famiglie e le imprese useranno combustibili per produrre energia che non inquinano l'atmosfera quindi queste sono due imposte già che danno un gettito a livello dell'Unione Europea dell'Eurozona sia l'imposta sulle transazioni finanziarie sia la Carbon Tax possono dare un gettito di circa 50 miliardi di euro quindi sono 100 miliardi di euro di gettito di queste due imposte che consentono di raddoppiare il bilancio dell'Eurozona oggi il bilancio è l'1% sono grosso modo nell'Eurozona 100 miliardi di euro con il gettito di queste imposte si può raddoppiare il bilancio ma se io ho delle risorse proprie del bilancio dell'Eurozona posso poi emettere titoli perché i risparmiatori possono acquistare titoli europei che sono garantiti da queste risorse che vanno al bilancio cioè so che verranno ripagati il prestito che io faccio all'Eurozona perché l'Eurozona dispone di un bilancio finanziato di risorse proprie il terzo elemento è la Banca Europea degli investimenti che può finanziare investimenti come diceva prima Bordino ora qual è il punto? il punto è che cosa serve qual è il piano di sviluppo che deve fare l'Europa? dicevamo prima oggi è un dato acquisito diciamo con il fiscal compact che ormai si è tradotto in termini costituzionali all'interno dei paesi membri che non si fa più sviluppo con il debito gli stati membri non fanno più sviluppo con il debito perché il saldo di bilancio pubblico deve essere in equilibrio ma c'è un secondo elemento il secondo elemento è che la politica europea di sviluppo non deve promuovere più la crescita dei consumi ma deve essere indirizzata a finanziare investimenti e produzioni di beni pubblici due parole perché siamo scarsi di tempo perché non dobbiamo più finanziare i consumi? se noi pensiamo è chiaro che nella situazione attuale c'è un problema di consumi molte famiglie come si dice nei telegiornali non arrivano alla fine del mese quindi non riescono a soddisfare i bisogni primari ma questo problema deve essere affrontato in modo diverso non facendo come si diceva prima il taglio delle tasse oppure politiche creditizie questo problema è un problema di distribuzione del reddito è un problema legato alla cattiva distribuzione del reddito un manager di un hedge fund americano un manager di un fondo speculativo americano guadagna 526 milioni di dollari all'anno non ho sbagliato sono 526 milioni un dirigente di una nota impresa torinese di cui non faccio il nome ma che è molto nota nel mondo guadagna come tutti gli operai del lingotto messi insieme cioè non è possibile garantire una ripresa dei consumi se non si fanno politiche redistributive non c'è bisogno di ripresa basta poco cioè se io tolgo 1000 euro a una persona che guadagna o 1000 dollari o un milione di dollari a una persona che guadagna 526 milioni i consumi non diminuiscono ma se io do 1000 euro in più a un pensionato al minimo i consumi aumentano quindi le politiche di aggiustamento nei livelli di consumi che sono necessarie sono politiche redistributive riguardano la distribuzione del reddito noi in questi dieci anni abbiamo aumentato enormemente il divario fra la fascia dei ricchi e la fascia dei poveri e molti del ceto medio sono diventati poveri quindi c'è un problema di redistribuzione per sostenere i consumi ma non c'è un problema di aumentare i consumi per una ragione molto semplice perché noi viviamo in società opulente in cui i consumi sono eccessivi soprattutto rispetto al vincolo ambientale il vincolo ambientale oggi non consente di espandere i consumi nei paesi ricchi perché oggi su 7 miliardi di persone 6 miliardi stanno entrando nella fase della crescita dei consumi e se i cinesi e gli indiani vogliono raggiungere gli stessi livelli di consumo degli europei e degli americani il mondo non regge più quindi c'è il rischio dell'orocausto ecologico e non è terrorismo ambientalista questa è la realtà perché prima era un miliardo di persone che avevano consumi opulenti oggi abbiamo 6 miliardi di persone fortunatamente che stanno cercando di avere un livello di consumo più elevato se tutti vogliono avere 4 automobili e 5 televisori come hanno gli europei e gli americani il mondo non ce la fa più allora l'Europa deve fare una scelta diversa bisogna garantire una politica di ripresa gestita a livello europeo con un piano europeo di sviluppo sostenibile nel senso che sia compatibile con i vincoli ambientali si può finanziare questo piano di sviluppo con l'imposta sulle transazioni finanziarie alla carbon tax con le emissioni euro bonds e con i finanziamenti alla banca europea ma questo piano deve essere finalizzato all'investimenti che fanno crescere la produttività dell'economia europea e alla produzione dei beni pubblici voglio dire una parola su questo ultimo punto da noi nel dibattito corrente l'obiettivo è far aumentare i consumi privati io dico che i consumi privati non possono crescere se non attraverso la redistribuzione del reddito chi ha molto deve consumare meno e chi ha poco deve consumare più il problema è di avere soddisfazioni di bisogni insoddisfatti noi viviamo in società che sono opulenti dal punto di vista dei consumi privati ma bisogni fondamentali della società se voi siete insegnanti lo sapete bene cosa succede bisogni fondamentali della società non sono soddisfatti ora questo è il problema fondamentale che noi abbiamo di fronte io faccio sempre un esempio paradossale l'Italia è il paese dove si dice io ci credo c'è concentrato la maggiore quantità di beni culturali al mondo oggi se un giovane in Italia vuole essere sicuro al 100% senza nessun margine di rischio di rimanere disoccupato nella vita segue un corso per la protezione dei beni culturali e questo è uno simoro è uno simoro noi dobbiamo rovesciare questa situazione noi abbiamo soddisfatti in misura eccessiva i bisogni privati e abbiamo un'enorme quantità di bisogni collettivi soddisfatti la scuola non è finanziata l'università non può finanziare i suoi laboratori la ricerca non va avanti non c'è innovazione tecnologica le nostre città sono in decadenza i beni pubblici non sono conservati non c'è protezione dei beni culturali questi sono gli obiettivi di una politica europea di crescita da un lato gli investimenti per rendere competitiva l'industria europea d'altro lato la soddisfazione dei beni collettivi il che richiede che ci sia meno produzioni di beni privati e più produzioni di beni pubblici allora questo è l'obiettivo del piano di sviluppo il piano di sviluppo è possibile il piano di sviluppo richiede una trasformazione istituzionale dell'Europa dell'Eurozona perché se vogliamo fare politica di sviluppo non è possibile oggi con le istituzioni europee come ricordava Bordino priva le decisioni europee vengono prese nel campo fiscale vengono prese all'unanimità non è pensabile che 18 paesi si mettono d'accordo per fare le stesse cose se non c'è un governo ma c'è di più se noi creiamo un bilancio dell'Eurozona per finanziare un piano di sviluppo europeo e da questo bilancio attribuiamo delle imposte la carbon tax e la tasse per le relazioni finanziarie c'è un principio fondamentale di democrazia che dice no taxation without representation cioè non c'è possibilità di riscuotere imposte se non c'è un controllo popolare se non c'è chi decide sul uso delle risorse sul prelievo delle risorse e chi decide cioè un governo europeo dell'economia deve essere controllato attraverso le istituzioni democratiche quindi io dico ic rodus ic salta siamo arrivati come si diceva prima o si va avanti o c'è la disintegrazione questa crisi sta provocando una situazione di perdita di consensi del processo di integrazione europea c'è la degenerazione politica c'è il rinascere del nazionalismo delle forme esaperate di razzismo e ci sono c'è una decadenza della vita pubblica della moralità pubblica no? cioè quando vedo queste cose qui dei consiglieri regionali mi fa pena mi fa pena perché se uno ruba ruve dei miliardi di euro non va a prendere le briciole per finanziarsi il pranzo di nozze cioè siamo veramente caduti a un livello estremamente perché? ma perché non è che i partiti siano in decadenza sono gli stati nazionali che sono in decadenza e la decadenza degli stati nazionali provoca la crisi della politica e la crisi dei partiti io credo quindi che siamo di fronte a un bivio o una piega come ricordava giustamente Bordino questo bel articolo della Spinelli e i traguardi che abbiamo di fronte sono vicini il primo traguardo è le elezioni europee del 2014 il maggio 2014 io credo che noi dobbiamo batterci per imporre ai partiti delle scelte chiare per avviare un piano di sviluppo in Europa perché la gente non ne può più è dal 2007 che siamo in Europa in una situazione di crisi e la crisi ha aggravato le tensioni sociali perché c'è una piccola fascia protetta che non ha subito minimamente gli effetti della crisi e c'è una grande maggioranza della popolazione che invece ha subito fortemente i controcolpi della crisi perché c'è una decadenza del bene pubblico c'è una decadenza dei beni collettivi quindi bisogna creare un piano di sviluppo per dare una prospettiva come diceva giustamente Bordino bisogna avere una prospettiva per il futuro io devo pensare che i miei figli e i miei nipoti avranno una situazione migliore della mia per la prima volta nella storia di questo dopoguerra noi abbiamo una situazione in cui oggi noi stavamo noi della mia generazione stavamo meglio le generazioni presenti ma i nostri figli stanno peggio non c'è prospettiva di crescita ma non c'è prospettiva di crescita se non basta un piano ma bisogna dare le istituzioni adeguate per far sì che le scelte fondamentali siano fatte dai cittadini quindi di fronte all'elezione europea io credo che il compito nostro sia quello di cercare di favorire che nella classe politica emerga la consapevolezza che c'è la possibilità di dare una svolta positiva alla crisi dell'Europa concludo con una parola sull'Italia io non voglio entrare nell'analisi della politica italiana non è compito di un federalista però io oggi prendo atto che in Italia abbiamo il governo o le personalità nel governo che hanno una maggiore vocazione europea il presidente della repubblica il presidente del consiglio il ministro degli esteri sono fortemente a favore di una scelta per l'Europa degli Stati Uniti Europa in un'intervista alla stampa letta aveva intitolato verso gli Stati Uniti Europa e ha detto il mio sogno il sogno della mia vita è il sogno spinelliano degli Stati Uniti Europa la Bonino ha proposto una federazione leggera per l'Europa Napolitano da sempre è stato presidente del movimento europeo si è batte per la federazione europea io credo che sia una responsabilità dell'Italia prendere iniziativa prima con le elezioni europee poi nel secondo semestre del 2014 quando l'Italia avrà la presenza di turno del Consiglio Europeo di portare avanti un progetto per ridare una prospettiva di crescita all'economia europea e una prospettiva politica al processo di integrazione europea abbiamo una mezz'oretta per discutere fare domande ma anche audizioni interventi eccetera e i relatori sono qui a disposizione chi vuole intervenire in attesa delle domande volevo informarvi che il professor Maiocchi ci ha lasciato un suo contributo ce l'ha lasciato solo adesso quindi non abbiamo potuto inserirlo in queste dispense però abbiamo fatto delle fotocopie quindi uscendo potete ritirare questo intervento qualora non bastassero lo pubblicheremo sul sito abbiamo anche stampato ulteriore copie di questa dispensa che potete ritirare aspettiamo le vostre domande è un contributo inserito in un libro dal professor Bordino un'altra cosa per quanto riguarda il video noi pubblicheremo tutti i riferimenti e documentazione in modo tale che i vostri alunni possano insomma realizzare anche questo prodotto io sono in vacanza dell'istituto martinetti di caloso voglio chiedere al professor Mallorchi cosa ne pensa di una notizia che ho sentito recentemente che in Spagna per sostenere il mercato mobiliare visto che ci sono molto basso ci sono moltissime case costruite da poco che non sono state né vendute né date in locazione hanno pensato di devolirle io lo ritengo un grosso spreco di ricchezza una demorazione oltretutto comporta dei costi voglio sentire la sua opinione per qualche domanda no? forse è meglio se ci sono altre domande per poter rispondere poi tutte e due potranno ecco e anche lei buola grazie la mantegazza dell'istituto leardi di casale monferrato allora io insegno diritto economia politica e scienza delle finanze premetto che i miei alunni dicono che io sia innamorata di Keynes per cui tutto quello che riguarda le politiche keynesiane da parte mia ha il massimo consenso ho visto che la banca centrale europea ha diminuito ha sorpreso ulteriormente il tasso di interesse allo 0,25% raggiungendo il minimo storico il nuovo minimo storico sono comunque abbastanza perplessa perché nonostante la banca centrale effettivamente sia forse l'unico organismo che si sta impegnando un pochino per attuare una politica di apertura verso gli investimenti eccetera noto che comunque c'è una scarsa volontà da parte delle imprese e degli industriali a seguire e questa politica e per quanto riguarda il discorso che facevate del rinnovamento dell'andare verso il federalismo che è una cosa che io auspico con tutto il cuore trovo che il rinnovamento degli stati così nel modo in cui ne avete parlato voi stia un po' cozzando contro una cattiva volontà da parte del popolo di chi dovrebbe effettivamente manifestare quelle che sono le decisioni le tendenze eccetera cioè tutti un po' distrutti dalla crisi e dai vari fatti di corruzione eccetera ci sia più una fuga che non una volontà di manifestare la voglia di cambiare la politica della demolizione per dire quando in Italia anche in Italia si fa ogni tanto si parla politica di demolizione degli abusivi io farei con Napalm e con con insomma bombardamento umanitario però è vero che c'è una dilapidazione di ricchezza però per esempio il caso della Spagna chiaramente c'era un boom immobiliare determinato da forme speculative alimentato dal credito cioè se andiamo a vedere cosa è successo in Spagna questo è un effetto perverso dell'ingresso della Spagna nell'euro perché i tassi di interesse sono diventati molto bassi quindi era molto facile ottenere credito e il credito in Spagna è stato utilizzato soprattutto per favorire gli investimenti immobiliari quindi c'è stata un'esplosione immobiliare in Spagna fino a quando è durata la domanda tutti ci hanno guadagnato a un certo punto la domanda si è esaurita adesso c'è il problema di chi ha prodotto questi beni messi sul mercato che non sono stati acquistati è il problema delle banche che hanno finanziato l'invito immobiliare ora io non so se la soluzione sia la demolizione però io ho la convinzione che nel caso delle immobili valga un po' quello che avevamo detto sulla domanda di bene di consumo cioè il suolo in Europa è un bene inestimabile è un bene inestimabile noi abbiamo un consumo di suolo che è enorme è assolutamente abnorme e abbiamo nello stesso tempo problemi di carenza cioè di insoddisfazione dalla domanda perché? perché il consumo di suolo viene fatto a scopi speculativi si producono alloggi per cui non c'è domanda perché sono fuori dalla portata della famiglia media quindi noi abbiamo i due eccesso di domanda eccesso di offerta e d'altro lato un'enorme quantità di famiglie pensiamo soprattutto alle famiglie giovani che non hanno la possibilità di trovare casa perché i prezzi sono troppo elevati allora da un lato questo richiede un controllo della politica urbanistica che in Italia non c'è stato è dai tempi di suolo che non si fanno più progetti di legge urbanistica in Italia e le nostre città lo vediamo come si sono ridotte in più io direi la parola d'ordine è abbastanza banale in sé cioè il problema è riutilizzare il patrimonio edilizio esistente investire enormemente per la riqualificazione energetica cosa che è possibile oggi perché i risparmi che si possono fare con i processi di riqualificazione energetica degli edifici sono tali da compensare gli investimenti il che darebbe fiato all'industria edilizia e in più ritornare a forme di edilizia che siano compatibili con la domanda cioè quindi forme edilizia che si possa che possa garantire la soddisfazione anche della domanda delle famiglie che sono a basso reddito quindi in generale io sono per un forte limitazione degli usi del suolo cioè in linea di principio non si dovrebbe occupare un metro di suolo in più e si dovrebbe riutilizzare tutto il patrimonio esistente e questo è un compito della politica perché il mercato va dove ci sono possibilità di fare soldi la politica deve indirizzare il mercato edilizia verso questi sbocchi sono contento di sentire che lei è keynesiana e la invito a tenere duro perché insomma il problema della banca centrale europea il problema della banca centrale europea è molto Draghi prima di tutto ha salvato molti paesi fra cui l'Italia per quando ha dichiarato che faremo di tutto per salvare l'euro diciamo l'allargamento dello spread è finito è bastata questa dichiarazione il problema fondamentale riducono ancora il tasso di interesse ma qui c'è la frase famosa se il cavallo non la siete il cavallo non beve quindi le imprese se non c'è domanda le imprese non fanno domanda non fanno richiesta alle banche di prestiti perché le famiglie non possono indebitarsi ulteriormente perché hanno problemi di rimborso in più le banche hanno tutti questi vincoli di ricapitalizzazione che derivano da Basilea 2 Basilea 3 e quindi le banche prendono i soldi e invece di darli a prestito le depositano presso la banca centrale per soddisfare i requisiti di capitale è chiaro quindi che la politica monetaria è giunta all'estremo delle sue possibilità oggi l'unica possibilità è accompagnare una politica monetaria accomodante come quella che sta facendo Draghi con una politica fiscale espansiva dove è possibile fare politiche fiscali espansive non è più possibile a livello nazionale lo si può fare a livello europeo perché tra l'altro a livello europeo lo stock di debito è zero non c'è debito è l'unico paese del mondo l'Europa dove non c'è debito perché il trattato in Roma impediva di farlo ultima considerazione sul consenso io dico è vero che il consenso diminuisce il tasso di partecipazione mi lascia sempre è un'indicazione però teniamo presente che a New York ha votato il 24% della popolazione quindi insomma fra un po' uno va là e dice io sono sindaco perché vota da solo e a Berlec ha risolto il problema non è un sistema molto efficace però il problema del consenso esiste e questa partecipazione al voto è uno degli elementi la partecipazione al voto alle europee anche qui c'è un elemento particolare io vado a votare se ho per esempio perché so che c'è in gioco una posta il governo sarà di destra o di sinistra vince il centro il centro-destra o il centro-sinistra il mio voto serve a determinare il governo del paese e allora vado a votare ma in Europa questo non succede io vado a votare ma il governo non lo decido io il governo non lo decide il Consiglio Europeo oggi i diversi partiti hanno incominciato il PSE ha indicato Schulz come candidato a Presidente della Commissione e la Merkel ha detto non è detto che sia Schulz perché lo decidiamo noi anche se il Trattato di Lisbona prevede e credo che non sarà tanto semplice far passare nel Parlamento europeo un candidato che non sia diciamo della coalizione vincente quindi qualche elemento di novità tra l'altro Lisbona l'ha introdotto però il primo problema è questo se non è in gioco il potere una scelta sul potere la gente tendenzialmente non va a votare se io so che vado a votare e poi alla fine dicono abbiamo scherzato adesso il Presidente della Commissione lo fa Barroso perché Blair ha deciso che deve essere una persona ancora più insignificante di Lady Ashton e quindi l'unico che troviamo in Europa più insignificante di Lady Ashton è Barroso lo mettiamo Presidente della Commissione questa è la logica delle scelte fatte al Consiglio Europeo se invece andando a votare io so che la coalizione che vince fa il Presidente della Commissione e il Presidente della Commissione è il Capo del Governo Europeo allora ci vado questo è il primo elemento il secondo elemento è che il consenso la mancanza di consenso è contro questa Europa è contro questa Europa cioè obiettivamente sono sette il meccanismo europeo di stabilità questo fondo ha una dotazione di 700 miliardi di euro sono sette volte il bilancio europeo allora invece di fare queste cose qui queste ma facciamo la politica di espansione in Europa cioè la gente si chiede ma è possibile che Obama di fronte alla crisi il giorno dopo stanzi a 700 miliardi di dollari per far ripartire l'economia americana noi ci mettiamo anni per salvare la Grecia il 3% del PIL europeo per salvare la Grecia bastava bastava niente cosa abbiamo speso per salvare la Grecia perché perché non si sono fatte le politiche che bisogna fare perché non c'è un bilancio europeo abbiamo creato il meccanismo europeo di stabilità lì sono un'enorme quantità di risorse ma con 100 miliardi di euro noi facciamo una politica espansiva in Europa allora io mi chiedo non giustifico ma capisco che ci sia questa mancanza noi dobbiamo come diceva Bordino ridare una prospettiva agli europei quindi il problema è fare in modo che i partiti siano obbligati nei loro programmi elettorali e poi nelle loro scelte una volta che sarà eletto il Parlamento Europeo indicare che l'Europa è ritornata a quella che era l'Europa per la nostra generazione cioè una via di uscita dai drammi della guerra e del post bellici e che ridia fiducia alla gente nel senso che c'è una politica europea voglio un'ultima osservazione poi chiudo l'Europa se va avanti va avanti sul terreno dell'unione economica e monetaria e dicevo anch'io l'unica possibilità concreta è arrivare a un governo federale dell'eurozone ma io credo che prossimamente si porranno con forza i problemi della politica estera e della difesa Bordino ricordava il problema della difesa il centro studi sul federalismo di Torino insieme alle IAE di Roma ha fatto uno studio sul costo della mancanza di una difesa europea le valutazioni oscillano fra 20 e 120 miliardi di euro insomma l'ordine di grandezza è quasi quello del bilancio europeo sono spese buttate via duplicazioni oltre a essere inefficace la difesa europea costa molto di più perché abbiamo 27 difese nazionali che non funzionano e costano molto secondo elemento quindi c'è un elemento di risparmio facendo la difesa europea si risparmia molto il secondo elemento è che la necessità della difesa europea crescerà perché sarà sempre più difficile per gli americani garantire la protezione a tutti le aree del mondo quello che sta succedendo negli Stati Uniti il problema del bilancio le posizioni anche del T-party che sono contro le prelievo fiscali cioè negli Stati Uniti non c'è stato il fiscal compact ma il problema del ristabilimento dell'equilibrio fiscale si sta ponendo e se si devono restare in bilancio dov'è che possono tagliare gli Stati Uniti sulle spese militari ma se riducono le spese militari le responsabilità degli altri aree del mondo aumentano e l'Europa dovrà avere una propria politica estera della difesa perché altrimenti non si risolvono i problemi del Mediterraneo non si risolvono i problemi del terrorismo e così via quindi anche qui io credo che le prospettive di avanzare da un'unione economica monetaria su base federale verso una vera e propria federazione che includa anche i problemi della politica estera e della difesa oggi siano diventate abbastanza realistiche ringrazio tutti ringrazio per la partecipazione attenta e interessata adesso avete molto importante che sia stata data aggiunta alle dispense la sua relazione quindi pare che avete un quadro nelle dispense e nella relazione di Maiocchi abbastanza ampio per preparare la partecipazione dei vostri studenti al concorso e allora ci rivediamo a cui di noi ci incontreremo in occasione delle conferenze nelle varie scuole del Piemonte e tutto andando bene ci rincontreremo l'anno prossimo grazie a tutti buonasera non velo male che hai portato questo il testo è il libro di Bordino si lo so solo che nelle dispense facciamo delle selezioni insomma è bravissimo ma io spero vero ma è bravissimo anche se è giocchiera è molto utile è tutto del mestiere ho fatto l'insegnante per 50 anni eh no sono giudici non voglio io non voglio io non voglio se io non so tutto il campo di vedere i ragazzi che si distraggono si distraggono non sai comunicare oppure è troppo difficile non mi ragazzo io quando vedo io quando vedo facciamo la pantalaria cercavo di cambiare perché io mi ricordo c'era un professore di diritto internazionale che prendeva le fine quindi tutti andavano c'era gente che faceva la base c'era una cosa io non sono capace io non sono capace a me viene brutto male se comincia un'idea grazie 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 Grazie. 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 Grazie.